Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se state guardando questo video allora vuol dire che siamo arrivati ai mille iscritti. Grazie mille, davvero è un traguardo che non mi aspettavo sinceramente e francamente non so nemmeno se riuscirei a parlare davanti a mille persone dal vero. Vabbè comunque è successo ed è bellissimo, grazie mille ancora. Per ringraziarvi ho deciso di far uscire questo video che credo che alcuni di voi stavano aspettando. Si tratta della presentazione di tutta la mia collezione di insetti che vedete qui sotto. Sono 24 scatole come queste, più altre 5 scatole in magazzino in cui tengo insetti sparsi e alcune robe in alcol. Quindi è veramente tanta roba. Io spero di rimanere sotto le due ore di video. Adesso non ho ancora iniziato a registrarlo quindi effettivamente non so quanto ci impiegherò. Quindi speriamo, o al massimo guardatelo pure in spezzoni. Vi lascio qui in descrizione una scaletta con le varie scatole e il minutaggio così potete saltare nel caso. Bene, grazie mille ancora davvero e io direi di cominciare perché c'è veramente tanta roba. E da che cosa iniziare secondo voi se non dalla teca della sottofamiglia Carabine, che è quella un po' tipica diciamo della famiglia dei Carabidi, che è il gruppo di insetti che preferisco e che costituisce la maggior parte della mia collezione come vedrete. Allora, in questa teca e nella prossima vi farò vedere gli esemplari che ho di questo gruppo. In particolare in questa ho tenuto soltanto il genere Carabus diviso nei vari sottogeneri. Nella prossima ci sarà il resto ma in realtà anche nella prossima ho lasciato una riga apposta per spostare alcuni esemplari di Carabus che come vedete qui iniziano già a non starci. Ad esempio questi due sono esemplari di specie che sono già rappresentate ma che fisicamente proprio non sono riuscito a farci stare. Vabbè. Allora, iniziamo subito con la specie più comune in Italia appartenente a questo genere che è il Carabus granulatus. In particolare questa è la sottospecie interstizialis. Una specie molto comune e facile da trovare soprattutto in inverno dove si rifugia ad esempio sotto le cortecce degli alberi e tirandole via è facile che si trovino esemplari di questa specie che è tipica di zone umide. E questa è l'unica specie del sottogenere Carabus che ho. Passando invece ad un altro sottogenere, il sottogenere Orinocarabus, abbiamo delle specie che si trovano in realtà anche abbastanza frequentemente, se beccate il posto giusto, in montagna. Sono specie adattate a vivere in alta montagna. Abbiamo ad esempio il Carabus adamellicola che vive sull'adamello e le tre specie che sono il Carabus silvestris, questa è la sottospecie nominale, e poi il Carabus baudi con la sottospecie nominale, baudi, e la sottospecie stechi. Queste sono specie che invece vengono dal Piemonte. Infine abbiamo il Carabus linnae. Questa specie invece viene dal Veneto, credo, sì, e vive anche a quote un po' più basse. Abbiamo poi il sottogenere Eucarabus con le due specie che ho che sono il Carabus catenulatus e il Carabus italicus. La specie Carabus italicus vive anche questa negli stessi ambienti del Granulatus, ma è un po' più esigente e quindi un po' più rara. Poi c'è il sottogenere Megodontus con l'unica specie che ho che è il Carabus germari, che in teoria sarebbe da dividere in decine di sottospecie che però francamente sono tutte uguali, quindi io le ho messe tutte assieme, pace e amen. Sì, occupano veramente tanto spazio e per questo ne dovrò sbolognare qualcuno in giro perché se no non mi ci stanno più. Vabbè, abbiamo poi il sottogenere Mesocarabus con la specie Carabus problematicus. Poi c'è una specie che in realtà non so esattamente se si tratti di Carabus troianus, viene dalla Grecia e non sono riuscito a identificarlo con certezza, dovrò farlo controllare. Per fortuna è maschio e questo permetterà di controllare anche a livello dei caratteri dei genitali se si tratta di quella specie oppure no. Per chi non lo sapesse, sì, molto spesso per distinguere diverse specie bisogna controllare caratteri presenti soltanto sugli organi genitali. Vabbè comunque, c'è poi il sottogenere Macrotorax con la bellissima specie Carabus morbillosus, molto colorata e che si presenta anche con diverse colorazioni in base alla popolazione. Comunque è sempre la stessa specie. Poi uno dei carabi più grandi che ci sono in Italia è il Carabus coriaceus, una specie che si trova nei boschi di media quota in generale. Purtroppo non l'ho mai vista dal vivo. Altri due esemplari che mi sono stati dati e che non ho trovato io appartengono al sottogenere Archicarabus e si tratta del Carabus rossi. Una specie abbastanza interessante, questi due esemplari provengono dal Lazio e anche questa mi piacerebbe molto vederla dal vivo. C'è poi un altro esemplare che ho acquistato alla fiera di Modena ed è il Carabus maurus, appartenente al sottogenere Mimocarabus. Questa specie invece viene dal Caucaso, credo, dovrebbe? Sì, proviene dalla Georgia. E passando invece all'ultima colonna abbiamo il sottogenere Oreocarabus con la specie Carabus hortensis e la specie Carabus glabratus di cui ho anche questo esemplare. Un altro sottogenere che nei posti dove si trova è abbastanza comune è il sottogenere Platicarabus e con le due specie che ho che sono il Carabus croizzeri chircheri che avete visto anche nei video sulle dolomiti di Brenta in cui sono andato a cercare l'oreo nebria. Si tratta di specie montane quindi come immaginate. E poi c'è la specie Depressus. Queste due specie sono molto difficili da distinguere fra di loro e forse in realtà con alcuni esemplari ho anche sbagliato però capitemi io di Carabus non ne so molto e in realtà mi stanno anche un po' sulle balle perché guardate quanto spazio occupano. Vabbè, poi c'è il sottogenere Chetocarabus, anche questo molto bello con la specie Carabus lefebvrei che è l'unica che ho qui con le due sottospecie che sono lefebvrei, quella nominale, e il Bayardi che invece è endemico del Sud Italia. C'è poi il sottogenere Damaster che non è presente in Italia stavolta e proviene dall'estremo oriente. Questa specie è giapponese ed è il Carabus Blaptoides. Una specie molto interessante anche perché questa sua forma del corpo molto allungata gli serve per cacciare le chiocciole. In pratica non rompe il guscio come fanno ad esempio i Carabus Coriaceus per mangiarle, infatti hanno delle forti mandibole per rompere il guscio delle chiocciole. Invece il Carabus Blaptoides si infila dentro il guscio per mangiarle, per questo è così allungata e sottile. Infine, per chiudere in bellezza questa presentazione, abbiamo la specie col nome più epico che c'è, il Dio Carabus. Vi assicuro che non è una bestemmia, è proprio il suo nome, si chiama Dio Carabus Belibienkoi e proviene dalla Russia. E niente, io vi lascio con questo nome epico e passiamo alla prossima cassetta. Concludiamo brevemente la sottofamiglia Carabine con questa scatola veramente molto spoglia a a cui ho lasciato questa riga vuota per continuare col genere Carabus, dato che sto già sforando nella scatola precedente. Questa colonna invece è dedicata alla sottotribù Calosomina, quindi il genere Calosoma e simili. E infine le ultime due le dedicherò esclusivamente alla tribù Cicrini. Allora, prima di saltare a destra e a manca, iniziamo subito. Qui ho due specie appartenenti al genere Calosoma, che sono la Calosoma inquisitor e la Calosoma auropuntatum. Allora, anche in questo caso, io non ho mai visto dal vivo una Calosoma e lo so che a volte sono veramente comuni, però non mi è ancora capitato di vederla, ma mi piacerebbe veramente tantissimo perché sono delle specie veramente particolari. Anche perché molte specie, come ad esempio la Calosoma sicofanta, che è arboricola e caccia i bruchi sugli alberi praticamente. Mi piacerebbe molto vederla dal vivo, anche perché ha dei colori splendidi, ma la vedrete dopo, tranquilli. Comunque, passiamo brevemente sempre alla tribù Cicrini. Ho diverse specie, sempre appartenenti tutte al genere Cicrus. Iniziamo subito con quella che è la più comune, che è il Cicrus italicus, molto comune negli ambienti forestali di media quota un po' in tutta Italia. Poi c'è il Cicrus caraboides, presente anche in Italia, ma questo esemplare in particolare proviene dai Paesi Bassi. Abbiamo poi il Cicrus angustatus, un po' più raro. Ad esempio, questo esemplare, il primo l'ho trovato sulle Dolomiti di Brenta e il secondo me l'ha notato. Abbiamo poi il Cicrus attenuatus, una specie un po' più piccola e più particolare, che ho trovato soltanto una volta sempre in montagna. Era vicino a un torrente, probabilmente si stava rifugiando durante l'estate, perché sono tutte specie di ambienti umidi. E infine, questa è veramente una specie stupenda, che raramente si incontra dal vivo, io ho avuto la fortuna di trovarne quattro esemplari, che è il Cicrus cilindricollis. Gli avevo dedicato anche un video un po' di tempo fa. Allora, questa specie è veramente incredibile, vive soltanto ad altissima quota e soltanto per un breve periodo dell'anno, all'inizio dell'estate, quando non fa troppo caldo. In generale, tutte le specie del genere Cicrus sono adattate per la caccia alle chiocciole, come si può notare dalla testa e dal protorace, che sono molto stretti e allungati. Servono per infilarci dentro il guscio dalle chiocciole senza romperlo. Ecco, il Cilindricollis l'ha portata all'estremo questa caratteristica, almeno in Italia. Come potete notare, ha il collo cilindrico, come suggerisce il nome. Ed è una specie veramente stupenda, anche da vedere dal vivo, perché spesso la si trova infilata dentro le chiocciole. Mi è capitato di vederne uno così. E niente, sono bestie veramente stupende che spero di ritrovare per farvi vedere in un video, magari in futuro. Buono, abbiamo concluso anche la sottofamiglia Carabine e passiamo alla prossima! Questa è la terza scatola che vi mostro ed è dedicata interamente alla sottofamiglia Nebrine. Anche questa è spoglia, ma come al solito conto di riempirla. Allora, iniziamo subito con il genere tipico, che è il genere Nebria. La prima specie che vi mostro è la Nebria brevicollis, che è diffusa un po' in tutta l'Italia peninsulare ed è abbastanza comune, si riconosce per il fatto di avere un pronoto che è molto schiacciato e largo. Una specie simile è la Nebria tibialis, questa volta endemica italiana. Io le trovo comunemente sull'appennino, mentre vado a funghi. Si distingue dalla brevicollis appunto per il protoracee che è più stretto e allungato. C'è poi una specie molto molto bella, anche questa è endemica del Sud Italia però stavolta, che è la Nebria cratteri. Molto bella con questa colorazione viola acceso. Infine, concludiamo con le specie del sottogenere nominale, con la Nebria germari, sottospecie simoni. Questa specie è molto interessante e molto bella, perché è adattata a vivere ad altissime quote e si rinviene spesso ai bordi dei ghiacciai oppure sulla neve. Tipo io questo esemplare l'ho trovato a oltre 2400 metri. Sono specie molto adattate a vivere in questo ambiente, molto specializzate e per questo in pericolo. Poi c'è il sottogenere Eunebria, con le due specie anche qui molto simili, Nebria giochischi, che si rinviene lungo ruscelli e torrenti di media quota, soprattutto nei boschi. E poi la Nebria nigricornis, questa volta invece adattata a torrenti di quote più alte. Una specie che ho trovato assieme alla Nebria nigricornis è invece la Nebria laticollis, appartenente al sottogenere nebriola. Una specie molto bella, molto caratteristica. Passiamo poi ad un altro genere, che è il genere Leistus, un genere veramente molto strano, soprattutto per la forma della testa, con quei palpi allungatissimi, che sinceramente non mi ricordo esattamente a cosa servono. Comunque, questo genere è uno di quelli che ho incontrato meno di frequente, di fatti gli unici esemplari che ho trovato io sono stati questi, della specie Leistus spinibarbis, che ho trovato in occasione di questo video. E poi c'è il Leistus fulvibarbis e il Leistus terminatus. Poi c'è la tribù Noziofilini, che comprende un unico genere, il genere Noziofilus, le cui specie sono tutte molto molto simili fra di loro. Abbiamo ad esempio il Noziofilus Biguttatus, che è una delle specie più comuni. Poi c'è il Noziofilus Geminatus, anche questo sempre abbastanza comune. E infine il Noziofilus rufipes. Tutte queste specie vivono sempre in ambienti umidi e sono specializzate per la caccia dei collemboli, questi piccoli animaletti che vivono nel sottosuolo oppure fra la lettiera. Sono specie diurne che in boschi umidi si possono anche osservare mentre cacciano, ed è molto divertente perché vanno avanti a scatti fra le foglie. Infine, per concludere, una specie veramente stupenda, il Paropistius Indicus Kinensis. Questo genere è diffuso soltanto sulla catena himalayana, vive ad alte quote fra India, Nepal e Cina, comunque in quelle zone lì. In particolare questo esemplare proviene dalla Cina. E sono molto particolari all'interno dei nebrini, soprattutto per quei colori così accesi, così belli. E con questo chiudiamo anche la scatola dei nebrini. Passiamo adesso ad una serie di cinque scatole, no, sei scatole addirittura, che contengono una delle sottofamiglie che preferisco, la sottofamiglia Trechine. Questo gruppo di... Oddio, sto facendo crollare tutto. Vabbè. Questo gruppo di carabidi è diffuso un po' in tutto il mondo e vive soprattutto in ambienti umidi, in una vastissima gamma di ambienti. Praticamente vive dalle sponde ciottolose o sabbiose dei corsi d'acqua fino anche alle grotte più profonde. E anche per questo è uno dei gruppi che preferisco. Le forme che vivono in grotta, che vedrete tra poco, sono fra i carabidi più particolari che credo esistano al mondo. Ma iniziamo con calma. Questo è il genere Trecus, una scatola dedicata solo al genere Trecus perché sono tantissimi. Partiamo con una delle specie che, come vedete, è una delle più comuni in Italia, che è il Trecus quadristriatus. Vive nella lettiera o comunque nel terriccio, nei boschi di bassa e media quota. Ad alta quota invece è sostituito anche da un'altra specie comune che è il Trecus obtusus. Poi c'è il Trecus flavocinctus, che è una specie che vive invece nelle Canarie, che ho comprato alla fiera di Modena. Questo è il Trecus binotatus, l'ultima specie che ha una grande diffusione in Italia assieme all'Obtusus e al quadristriatus. E poi, simile al binotatus, c'è il Trecus schvienbacheri, o schvienbacheri, non so come si pronuncia. Questa specie invece è endemica italiana e vive attorno alle province di Brescia a Bergamo, credo. Poi, adesso iniziamo con le specie veramente interessanti, sono il Trecus barii e il Trecus magistretti, che vivono soltanto in una piccola parte delle Alpi bergamasche, attorno alla presolana. Poi c'è anche questo che, il cartellino col nome è coperto dalla... va bene, è il Trecus sinuatus, una specie leggermente più alta di fusione, ma comunque endemica delle Alpi. E poi c'è il Trecus tristiculus, che questa qua non mi ricordo... ah sì, l'avevo presa sulle Dolomiti di Brenta. Poi iniziamo con tutte le varie specie che sono... vengono dall'estero. Ad esempio il Trecus... ah no, il Trecus gracilitarsis invece è ancora italiano. Poi c'è il Trecus croaticus, che vive nei Balcani e in una piccolissima parte del territorio italiano sul confine. E poi ci sono varie specie, che adesso vi farò magari vedere una carrellata, che sono tutte... tutte estere. Questa è la seconda scatola dei Trechini, dedicata interamente al genere Duvalius. Adesso è un po' spoglia, però conto di riempirla. E comunque il genere Duvalius è un genere ancora abbastanza simile al genere Trecus, però con caratteristiche più spinte per la vita sottoterra. Infatti le specie, soprattutto quelle presenti nelle Alpi centrali e orientali, hanno uno stile di vita ancora simile a quello dei Trecus, salvo per il fatto che non si trovano quasi mai in superficie e gli unici punti in cui si possono trovare a poca profondità nel terreno sono in zone molto umide, come ad esempio sui bordi di torrenti. Le specie invece presenti sulle Alpi occidentali e sull'Appennino sono interamente adattate a vivere in grotta, ma comunque non così specializzate a vivere in grotta come altre che vi farò vedere più tardi. Iniziamo subito con il Duvalius. Allora, prima di tutto, questi qua sono delle Alpi centrali e orientali, perché più o meno dove abito io dove riesco andare a prenderli. Questo è un Duvalius dell'Appennino e questo è estero. Allora, iniziamo con questi. Abbiamo il Duvalius Boldori nella sottospecie nominale e nella sottospecie Leonide. Poi c'è il Duvalius Vinclerianus, sempre nella sottospecie nominale, e nella sottospecie Brescianus, che è quello un po' più comune nelle zone della provincia di Brescia e Bergamo. E poi nella ex oramai sottospecie Victoris, infatti qui dovrò cambiarlo perché è stata messa in sinonimia con la sottospecie Brescianus. Poi c'è il Duvalius Vingalmuelleri, nella sottospecie Adamellensis e nella sottospecie Giuricarie. Questa specie è una specie che vive già più ad alta quota, ad esempio l'Adamellensis vive soltanto sul massiccio dell'Adamello, mentre il Giuricarie l'ho trovato per adesso soltanto in Valvestino. Poi c'è il Duvalius Baldensis Pasubianus, una specie il Baldensis che vive attorno appunto al Monte Baldo, ma anche nei Lessini e anche questa specie che viene dal Pasubio. E inoltre c'è una singola sottospecie che vive nelle Alpi Giuricarie, che è questa, il Duvalius Baldensis Tombeanus. Una specie della pennina invece è il Duvalius Bianchi, sì, si chiama il Duvalius Bianchi, nella sottospecie Cicnus. Questa specie invece vive in grotta. Poi c'è il Duvalius del sottogenere Ungaro Trecus Procerus, che questo l'ho comprato a Modena in realtà. Infine ho deciso di rimettere in questa scatola, perché ci stavano, non per molti altri motivi, due generi simili che sono il Blemus e la specie è il Blemus Discus. Questa specie invece è più epigea, cioè vive abbastanza in superficie, anche questa si trova in ambienti umidi. E poi infine c'è il Trecoblemus Micros, che chiude la scatola. Cioè non nel senso che lui si metta e chiude la scatola, nel senso che è l'ultimo. Vabbè, avete capito. E adesso passiamo finalmente a quella che credo sia la mia scatola preferita. La scatola dei Trecchini Troglobi, ovvero che vivono esclusivamente in grotta. Più alcune robe lì che ho messo lì, soltanto perché non trovavo un altro posto dove metterli. Vabbè, iniziamo subito con queste specie veramente straordinarie, con il genere Boldoriella, di cui ho varie specie. Questo genere vive sia in grotta, con il sottogenere Boldoriella, sia in zone montane o comunque di altissima quota, in ambiente endogeo, quindi nel sottosuolo, fra le rocce e i sassi. Di questo sottogenere, che si chiama Insubrites, non ho specie per il momento, anche se sono andato a cercarle, senza successo, ma vabbè. Comunque, vi presento anche le specie di grotta, che sono comunque veramente spettacolari. Allora, prima di tutto c'è la Boldoriella Carminazzi, nella sottospecie nominale Carminazzi e nella sottospecie Bucciarelli. Poi c'è la Boldoriella Umeralis. Tutte queste specie vivono sulle Alpi centrali, fra il Lago Rigarda e il Lago Maggiore, credo. Comunque, in questa zona qui. E infine c'è la Boldoriella Concifolini. Poi c'è un altro genere, abbastanza simile alle Boldoriella, ma molto più grande e molto più specializzato, che è il genere Allegrezia. Questo è un genere che vive molto in profondità e sporadicamente si trova in grotta. In realtà, tutti questi animali che vedete qui non vivono propriamente in grotta, ma più che altro nelle fessure del sottosuolo. Arrivano in grotta, ad esempio, attirati da fonti di cibo, che magari si possono essere anche dalle trappole che vengono messe lì dai biospeleologi, e quindi si trovano molto raramente. Sono animali veramente rarissimi e difficili da prendere. Questa, in particolare, è l'Allegrezia Pavani Rossi, scoperto di recente, fra l'altro. Poi passiamo al genere Orotrecus, che sostituisce le Boldoriella nella zona a est del lago di Garda, con varie specie. Ho l'Orotrecus Pomini, l'Orotrecus Fabiani, che è una specie che, su cui avevo fatto anche un piccolo video, mi sembra l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, che vive esclusivamente sui colli iberici, nelle grotte o comunque sempre nelle fessure del terreno di quella zona. Poi c'è l'Orotrecus Springeri, l'Orotrecus Stefani Roboretanus, che viene dal Trentino, l'Orotrecus Targioni, con le sottospecie Gestroi e Slongoi, e infine i resti di quello che è un Orotrecus Venezianus Celline. Tutte specie veramente stupende. Io li adoro, i troglobi, non c'è niente da fare. Poi c'è il genere Anoptalmus, che invece si trova più a est, quindi attorno, allora marginalmente nel Veneto, poi c'è con molte più specie nel Friuli, e poi nei Balcani si sbizzarrisce con tantissime specie. In particolare ho l'Anoptalmus Tolminensis e l'Anoptalmus Ravasini. Poi c'è un altro genere balcanico, che è il Neotrecus della specie Dalmatinus. Ora, io di questi qua, specifico, non ne ho trovati molti. Ho trovato soltanto in un'occasione la Bulduriel Umeralis e l'Orotrecus Fabiani. Il resto o mi sono stati dati o li ho acquistati alla Fiera di Modena. Specifico perché non sono così fortunato. Vabbè, comunque c'è il Neotrecus e poi un altro genere molto molto particolare della fauna balcanica, che è il Fegomisetes, di cui avevo fatto anche un disegno un po' di tempo fa. In particolare questo è il Fegomisetes globices breiti, o breiti, non so anche qui come si pronuncia. Poi c'è un genere invece che vive sui Pirenei, che è il genere Aphenops. In particolare di queste tre specie, tutte acquistate a Modena, che sono la Phenops orionis, la Phenops pluto, meraviglioso, la Phenops pluto, e infine la Phenops crypticola equus, più piccolo. Poi qui ci sono, nell'ultima colonna, delle specie che ho messo lì perché non trovavo un altro punto dove metterle. Sono il Perileptus areolatus, sempre un trechino, ma della sottotribù perileptina. Questo vive sempre sulle sponde di fiumi, sotto i ciottoli o fra la ghiaia, ed è molto piccolo e molto difficile da vedere, come potete immaginare. E infine ho messo anche qui il Patrobus atrorufus, che appartiene alla sottofamiglia Patrobine, una sottofamiglia sempre simile ai trechini. Questa specie invece l'ho trovata completamente a caso in campagna e poi non l'ho più vista. Continuiamo con la sottofamiglia trechine, passando adesso alle scatole di Bembidini. Saranno tre scatole e in particolare in questa scatola iniziamo con le specie del genere Bembidion in senso lato. Infatti, tutti gli esemplari presenti in questa scatola, e tutti anche quelli della prossima scatola, erano inclusi in passato in un genere enorme che è il genere Bembidion, e poi divisi in vari sottogeneri. Alcuni li tengono ancora così. Io per adesso ho seguito la corrente, diciamo, che preferisce dividere il genere Bembidion in vari generi distinti. Allora, io non sono ancora così esperto di questo tipo di insetti per dirvi questa è la cosa giusta. È soltanto che ho iniziato facendo così e adesso sto continuando. Ecco, non prendete come oro colato quello che vi sto dicendo, è solo per questo. Vabbè, iniziamo subito con quello che è rimasto del genere Bembidion, con le due specie Bembidion quadrimaculatum e Bembidion quadripustulatum. Sono due specie che si trovano anche abbastanza comunemente in zone di pianura o di media quota, ad esempio io ne ho trovate anche nei campi coltivati. Poi c'è il genere Enfanes, con la specie Aspericollis, questa proviene dall'Emilia Romagna. Abbiamo poi il genere Notafus, con la specie Notafus Varius, e la specie Foveolatum. Questa invece non è presente in Italia, però ha una distribuzione veramente molto ampia in Africa e in Asia. In particolare questi esemplari qui provengono dall'Africa. Abbiamo poi il genere Trepanes, con la specie Trepanes articulatus, e il genere Filoctus, con la specie Filoctus lunulatus. Ah ecco, prima anche questa è una precisazione, tutte queste specie di Bembidini, quindi sia questa che delle prossime due scatole praticamente, vivono sempre in ambienti molto umidi, spesso anche le sponde dei fiumi, le spiagge di ciottoli vicine all'acqua. Comunque, fatta questa precisazione, passiamo al genere Metallina, che comprende alcune delle specie che odio, perché sono identiche fra di loro e sono comunissime. Allora, sono la Metallina Properans e la Metallina Lampros. Queste due specie si trovano praticamente ovunque e sono identiche fra di loro, per di più convivono, quindi immaginate la gioia nell'identificarle. Vabbè, poi abbiamo qui un genere di cui ho dimenticato di fare il cartellino col genere, ma comunque, vabbè, si chiama Phila e la specie che ho è Phila tethis. E poi c'è un genere che comprende soltanto tre specie, però è molto diffuso, molto facile da trovare. È il genere Princidium, con la specie Princidium punctulatum, che potete immaginare quanto sia comune. Vive sulle sponde dei fiumi o anche dei torrenti di media quota e è veramente comunissima e abbondantissima un po' ovunque. Abbiamo poi la specie Bipunctatum, che invece vive soltanto ad alta quota. Io ne ho trovate anche a oltre 2300 metri di esemplari di questa specie. È già più interessante rispetto al punctulatum. Bene, abbiamo finito anche con la prima scatola di Bembidini. Questa qui è la penultima scatola dedicata alla sottofamiglia Trechine. In particolare, tutta questa scatola è dedicata soltanto ad un genere, il genere Ocidromus, che comprende una grandissima varietà di specie che vivono tutte negli ambienti tipici dei Bembidini, ovvero le sponde ciottolose o sabbiose, soprattutto dei fiumi. In particolare ci sono specie comunissime come l'Ocidromus decorus, comune un po' in tutta Italia, sempre in quegli ambienti. Una specie simile ma un po' più rara è l'Ocidromus modestus, molto carina con quelle due macchie rosse che sono presenti sulle elitre. Un'altra specie molto simile all'Ocidromus decorus è l'Ocidromus siculus, che qui ho con la sottospecie Smirnensis. Proviene da Cipro. C'è poi il sottogenere col nome bellissimo che è Bembidionetolitschia. Non avete idea di quante volte l'ho ripetuto per riuscire a pronunciarlo bene? La prima specie che vi mostro è l'Ocidromus varicolor. Questo si distingue abbastanza facilmente dalle altre specie perché la parte anteriore delle elitre è rossa, mentre quella posteriore è nera con riflessi metallici. Poi c'è un complesso di specie che sono letteralmente tutte uguali dall'esterno, si distingono soltanto in base a caratteri presenti sui genitali. Iniziamo con quella un po' più comune che è l'Ocidromus ceruleus. Poi abbiamo la specie con cui è più facile confondere il ceruleus, che è l'Ocidromus pseudascendens, che fino a qualche anno fa si chiamava Ocidromus conceruleus. Ci sono poi delle specie presenti soprattutto in montagna, nei torrenti, negli stessi habitat dei nebrini, tra l'altro, che sono l'Ocidromus tibialis, un po' più grande e un po' più raro, ma comunque sempre di bestie comuni si tratta, e poi c'è l'Ocidromus geniculatus. Infine, per concludere, abbiamo l'Ocidromus ascendens e il conformis. E abbiamo chiuso anche con i Bembidionetolischia. Passiamo al sottogenere Perifus. La prima specie che vi mostro è il Perifus incognitus, che io ho trovato soltanto in un'occasione, che era... dov'era? Non mi ricordo più. Ah sì, sul passo del Maniva, in montagna, quindi. Questa è una specie montana. Poi c'è l'Ocidromus cruciatus, l'Ocidromus bualei, e poi due specie, anche queste molto molto simili, che si possono distinguere, come al solito, soltanto guardando i genitali maschili. Sono l'Ocidromus subcustatum, della sottospecie Vau, e il più comune, Ocidromus tetracolus. Questa specie si trova anche comunemente nei campi coltivati, io la trovo anche lì, soprattutto se c'è umido. Poi, nel sottogenere Euperifus, abbiamo la specie di Bembidino, che è più grande che c'è in Italia. È l'Ocidromus equus. Non ho ancora avuto l'occasione di vederlo. Poi c'è l'Ocidromus testaceus, più comune, anche nei fiumi di pianura, non così puliti, diciamo. E poi passiamo al sottogenere Perifanes. La prima specie, è l'Ocidromus latinus, abbastanza comune, soprattutto in ambienti di bosco, vive sempre lungo i torrenti. E poi l'Ocidromus deletus. Anche questo si trova in ambienti forestali, è un po' meno legato agli ambienti... ai ruscelli, diciamo. L'ho trovato anche in boschi umidi dove non c'era traccia di corsi d'acqua. Poi, nel sottogenere Ocituranes, per adesso ho soltanto la specie Ocidromus gudensi. E nel sottogenere Perifiolus, o Perifiolus, non so come si pronuncia anche qui, ho l'Ocidromus monticola. E chiudiamo con una specie che si discosta dall'aspetto tipico di questi Ocidromus, che appartiene al sottogenere Nefam. Si tratta dell'Ocidromus genei, della sottospecie Illigeri. Ah, per la cronaca, questi sono Ocidromus varicolor che qui non ci stavano. Questa scatola la dovrò risistemare, anche perché ho anche delle altre specie che... di cui devo stampare le etichette. Vabbè, chiudiamo anche questa e passiamo alla prossima. E per concludere con le scatole dei Trecchini, questa è l'ultima scatola dei Bembidini, che comprende tutte le specie della sottotribù Bembidina che non sono incluse nel genere Bembidion in senso lato. Poi ci sono anche i Tecchini, gli Anillini e infine la tribù Pogonini, per cui ho pochi esemplari, quindi li ho messi assieme agli ultimi Bembidini. Allora, anche qui iniziamo subito. Questo è il genere Sinecostictus, con la specie una delle più comuni che è il Sinecostictus Ruficornis, il Sinecostictus... là! Li scelgono apposta questi nomi, credo. Il Sinecostictus Dali, che questo qua viene da... da dove era? Dalla Sardegna, questo. Poi c'è il Sinecostictus Elongatus, il Cribrum Stenacrus e infine il Tarsicus, che ho trovato veramente per una botta di culo assurda, anche questa in campagna vicino a dove abito. Poi c'è il genere Ocis, che comprende numerose specie, alcune anche di pianura, che vivono un po' come vivono in Bembidini normali, diciamo, e altre che sono specializzate per vivere in alta montagna e molte di esse sono stenoendemiche, ovvero vivono soltanto in una porzione ristrettissima di territorio, sono relegate ad un singolo microhabitat. Ho provato a cercarle, senza successo, perché sono rarissime, per cui qui ho soltanto una delle specie più comuni, che è l'Ocis Arpaloides. Poi c'è uno dei miei generi di Bembidini preferiti, che è il genere Asaphidion, con numerose specie, tra cui due molto comuni, che sono l'Asaphidion Stierlini e l'Asaphidion Flavipes. Poi c'è l'Asaphidion Nebulosum, che è una delle specie più grandi che ci sono, l'Asaphidion Rossi, almeno spero che sia lui, perché essendo femmina è molto difficile identificarlo, quindi l'ho lasciato con Probabile Rossi. E poi c'è l'Asaphidion Curtum. E così abbiamo finito i Bembidini. Passiamo ora alla sottotribù Tachiina. In questo gruppo ci sono specie che sono veramente molto molto piccole, dalle abitudini di vita abbastanza simili a quelle dei Bembidini. Ad esempio abbiamo qui la Paratachis Bistriatus, la Paratachis Micros, un nome che è un programma, e una delle specie più interessanti che ho è la Paratachis Fulvicollis, questa viene dal Lazio. Poi abbiamo anche la Sferotachis e Hemorroidalis, si chiama così perché la punta delle elitre è rossa. Sì. Poi ci sono le Tachiura, con tre specie, la Tachiura Toracica, la Tachiura Sex Striata e la Tachiura Quadrisignata. In genere le specie di Tachini non sono così difficili da trovare, il punto è che sono molto piccole e quindi spesso passano inosservate. Ok. Poi abbiamo uno dei gruppi più interessanti, la sottotribù Anillina, che comprende soltanto specie che vivono in un ambiente endogeo, ovvero nel terreno profondo fra la terra e le rocce. Ad esempio qui abbiamo due Anillus, l'Anillus Florentinus e l'Anillus Bordoni, specie del centro Italia, e poi gli Scotodipnus, anche se... allora io ve li mostro lo stesso, anche se in realtà non sono esattamente sicuro di che specie si tratti, perché gli Anillini sono molto difficili da identificare, spesso serve controllare i genitali, anche in questo caso, e come vedete sono molto piccoli e difficili da controllare questi caratteri. Allora abbiamo lo Scotodipnus Glaber e lo Scotodipnus, credo sia il Subalpinus, ma devo ricontrollare. E infine c'è la tribù Pogonini, una tribù abbastanza simile a quella dei Bembidini, con specie che si rinvengono in genere lungo le coste. Ad esempio le specie che ho io provengono principalmente dalla Sardegna, credo. Ah no, questi qua sono romagnoli, questi vengono dalla Sardegna e in realtà anche questi. Comunque in Italia sono presenti soltanto due generi e tra l'altro queste sono tutte le specie che si trovano in Italia. Il primo genere è Pogonus, con il Pogonus, come si chiama? Riparius e il Pogonus Gilvipes, un po' più piccolo. E poi il secondo genere, che è anche questo veramente strano, è il Sirdenus, che comprende specie dal corpo praticamente di forma cilindrica. Il primo è il Sirdenus filiformis, anche qui un nome che è un programma, e il secondo di un altro sottogenere, il sottogenere Sirdenopsis, che è il Sirdenus grai, anche questo più piccolo. In realtà questa specie è presente in Italia, ma questo esemplare l'ho acquistato, non l'ho trovato, e non è italiano. Bene, abbiamo finito anche la sottofamiglia Trechine. Passiamo adesso ad un'altra sottofamiglia, che è la sottofamiglia Pterostichine. Anche questa divisa in due scatole, e in questa prima ho tenuto soltanto i generi Pterosticus, che include praticamente tutta la scatola, e poi il genere Pterosticus, che è qui. Queste sono due specie che non ho ancora avuto il tempo di sistemare, però dato che sono già rappresentate da alcuni esemplari sistemati, le ho lasciate lì per adesso. Allora, iniziamo subito con il genere Pterosticus. Il sottogenere per adesso è quello nominale, e abbiamo lo Pterosticus micans, una specie molto comune, sempre in ambiente forestale. Poi c'è una specie ben più interessante, che è l'Opterosticus ruffoi, endemica della Calabria, credo, comunque del sud Italia. Poi abbiamo l'Opterosticus auratus, molto bello, questo viene dal Piemonte, e poi due specie abbastanza simili, che sono l'Opterosticus vagepunctatus e l'Opterosticus impressicollis. L'Impressicollis, credo, dovrebbe essere quello piemontese. No, stavo sbagliando. L'Impressicollis è una specie appenninica, questi tre li ho trovati in Emilia-Romagna, mentre il Vagepunctatus è una specie che vive leggermente più a nord, sulle Alpi occidentali. Passando invece ad un altro sottogenere, il sottogenere Platipterus, con le due specie che ho, che sono il Lombardus, indovinate da dove viene, e l'Opterosticus truncatus, una specie molto bella, molto particolare appunto per la sua forma delle elitre, che sono allungate e poi truncate all'apice. Molto bella, mi è capitato di incontrarla soltanto una volta, in cui ho trovato questi due esemplari. Passiamo invece ad un altro sottogenere molto rappresentato, che è il sottogenere Oreophilus, che comprende specie in genere montane. Partiamo con una di quelle più comuni, che è l'Opterosticus multipuntatus, che si trova anche questo, con molte colorazioni differenti, che vanno dal verde al bronzato, al nero, quasi sul viola. Molto bella come specie, anche se molto comune. Poi c'è l'Oreophilus externepuntatus, questo di una bella colorazione bronzata, che ho trovato per adesso soltanto in Piemonte, in Valpellice comunque. Poi c'è un'altra specie veramente stupenda, che è l'Opterosticus cribratus, con questa scultura delle elitre, tutta a fossette incavate, che è una specie veramente bellissima. Purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di vederla dal vivo. Poi ci sono due specie abbastanza simili, che sono l'Opterosticus morio e l'Opterosticus ivani. E infine, per chiudere il sottogenere, c'è l'Opterosticus bicolor. Questi esemplari invece provengono dal... dov'è? Provengono dall'Emilia-Romagna. E anche questi sono molto belli per la loro colorazione bicolore, come suggerisce il nome. Allora, un altro sottogenere molto piccolo è il sottogenere Morphnosoma, con la specie Pterosticus melanarius. E poi c'è il sottogenere platisma, con una delle specie di Pterosticus più grandi che abbiamo, che è l'Opterosticus niger. In alcuni casi, questi... alcuni esemplari possono essere anche più grandi di alcuni carabus. Poi c'è il sottogenere Ceporus, con le specie Pterosticus burmeisteri. Questa è la sottospecie nominale e questa è la sottospecie baldensis. E poi c'è l'Opterosticus dissimilis. Passando al sottogenere Feronidius, c'è una delle specie più comuni sul territorio italiano, anche se presenti soprattutto in centro Italia, però dove ci sono è veramente comune, che è l'Opterosticus melas. Questa è la sottospecie Italicus. Di questa specie me ne sono arrivati una caterba dal Lazio, infatti questi provengono da lì, che erano finiti in trappola. Poi passiamo a un altro sottogenere, che è il Botryopterus, con la specie Pterosticus Oblongopuntatus, abbastanza diffusa in Europa. Per la terza ed ultima colonna di Pterosticus abbiamo il sottogenere Pseudomaseus, con la specie Pterosticus antracinus, e le due specie molto molto simili, che si distinguono soltanto in base a alcune caratteristiche dei genitali maschili, praticamente, che sono l'Opterosticus reticus e l'Opterosticus nigrita. Anche in questo caso l'identificazione è resa ancora più difficile dal fatto che le due specie a volte convivono. E quindi non è molto bello. Poi abbiamo un'altra specie che è sempre del sottogenere Pseudomaseus, che è lo Pterosticus enotrius. Poi nel sottogenere Melanius abbiamo la specie Pterosticus aterrimus, molto particolare soprattutto per la forma delle elitre, guardate un po'. E poi nel sottogenere Aptoderus ho qui le due specie Unctulatus, più comune, si trovano in alta quota. E la seconda specie è lo Pterosticus iosefin, che proviene sempre dall'alto piano di Asiago. Infine, l'ultimo sottogenere è il sottogenere Phonias, che comprende specie molto piccole, che si trovano anche in pianura, che sono lo Pterosticus strenus e lo Pterosticus Diligence. Cambiamo ora finalmente genere e passiamo ai Pecillus, di cui ho tre specie. Allora, la prima è la più comune, che si trova molto facilmente anche in pianura, io questi qua la maggior parte ne ho trovati nei campi coltivati, ad esempio. È una specie molto adattabile. È il Pecillus cupreus. Poi abbiamo una specie che si trova invece un po' più di rado e soprattutto a quote più alte, che è il Pecillus varicolor. E infine, questo è l'unico esemplare di Pecillus lepidus che ho trovato, l'ho trovato in Piemonte, sempre in montagna. Bon, e con questo abbiamo finito la prima scatola di Pterostichini. Passiamo adesso alla seconda scatola dedicata alla sottofamiglia Pterostichine. Nella prima c'erano i generi Pterosticus e Pecillus, qui ci sono tutti gli altri. Allora, partiamo con la prima parte che è dedicata alla sottotribù Molopina, con i generi Molops, la specie è Molops piceus tridentinus, come potete immaginare li ho trovati in provincia di Trento, e poi un genere bellissimo che è il genere Tanitrix o Tanitrix. La prima specie è la Tanitrix edura, che vi ho anche mostrato dal vivo nel video sul Monte Baldo, dove mi ha anche morso e mi ha fatto veramente male. E poi un'altra specie, diffusa invece più a est, che è la Tanitrix margine puntata, leggermente più grossa. Poi, uno dei generi di carabili più impressionanti che abbiamo in Italia è di sicuro il genere Percus. La specie Percus passerini è veramente enorme. E poi ho anche il Percus strictus over lightning, dalla Sardegna. Ho fatto uno scambio e mi hanno dato questa specie, anche questa stupenda. All'interno dei Molopina, il genere che anche qui la fa un po' da padrone in Italia è il genere Abax, con numerose specie, fra cui l'Abax parallelepipedus, che è anche questa una delle specie più comuni presenti in Italia, con la sottospecie inferior, presente in Trentino, sì, è una specie presente in Trentino. E poi la sottospecie, scusate, Curtulus, presente invece sull'Appennino. Almeno questi li ho trovati sull'Appennino romagnolo. Poi ho la specie Abax pilleri, comune sulle prealpi della provincia di Brescia e Bergamo. E infine l'Abax continuous, una specie veramente comune in pianura, che si trova negli ambienti boschivi, soprattutto in genere vicino a corsi d'acqua, o anche stani, zone umide, diciamo. È una specie molto comune, ma che si trova soltanto in Lombardia e Piemonte. Infine, di un altro sottogenere, Pterostico Abax, ho il Labax e Cheli, questi provengono invece dal Veneto, dovrebbe essere dai... dall'altopiano di Asiago, ecco. E poi ho una specie non identificata dalla Croazia. Poi abbiamo anche qui un genere molto, molto particolare, appartenente alla tribù Stomini stavolta, che è il genere Stomis. La specie che ho è lo Stomis rostratus, anche questo proviene dall'altopiano di Asiago. E purtroppo non l'ho trovato io, perché mi piacerebbe molto vederli dal vivo, però tant'è, anche queste sono bestie veramente fantastiche, che vivono nel terreno in realtà. Non escono molto in superficie, si possono trovare occasionalmente girando pietre oppure scavando. Poi abbiamo anche la tribù Abacetini, con la specie Abacetus salzmanni, abbastanza comune nei territori dell'Italia peninsulare e raggiunge a nord al massimo il Parco del Ticino. Quello è il limite a nord che raggiunge questa specie. In particolare, questo esemplare, il primo, viene dalla Lombardia, il resto è dalla Sardegna. Per concludere, passiamo invece alla tribù Zabrini, che è anche questa una delle tribù più diffuse, perché comprende uno dei generi che più odio in assoluto, che è il genere Amara. Ma andiamo con ordine. In primo luogo abbiamo il genere Zabrus. Qui ho tre specie, di cui due provenienti dall'Italia e una estera. La prima è lo Zabrus tenebrioides, di cui ho soltanto un esemplare che mi hanno dato, che proviene dal Lazio. E poi c'è lo Zabrus coste. Adesso mi sembra provenga sempre dal centro Italia. Infine la specie estera, che è anche quella un po' più colorata, è lo Zabrus auricalceus, che ho comprato a Modena. Infine facciamo una carrellata veloce delle Amara, che tanto sono tutte uguali. Stavolta non lo nego neanch'io, lo so che per molti di voi questi qua potrebbero sembrare tutti uguali, però le Amara sono veramente tutte uguali, ve lo assicuro. Allora, l'Amara più comune che abbiamo in Italia è l'Amara Enea, che si trova anche in ambienti antropizzati, tipo io adesso sto registrando vicino al cortile, lì c'è una popolazione di Amara che non so cosa ci faccia, sinceramente, ma vabbè. Poi, vabbè, faccio passare una carrellata veloce, abbiamo l'Amara Antobia, l'Amara Comunis, l'Amara Familiaris, l'Amara Lucida, l'Amara Nitida, l'Amara Ovata, l'Amara Similata, come potete notare anche dalle immagini sono tutte più o meno specie molto simili fra di loro. Poi c'è un altro sottogenere, finalmente, che è Celia, con la specie Amara Erratica. Questa si trova soltanto in alta montagna. Poi c'è il sottogenere Percosia, con l'Amara Infuscata. E infine, finalmente, un sottogenere che si discosta un po' dall'aspetto tipico, che è le Irides, con la specie Amara Alpestris. Anche queste specie si trovano in montagna, sulle Alpi. Io mi sa che le ho trovate soltanto in quote abbastanza elevate. Bene, direi che anche con questo possiamo concludere la presentazione dei miei Pterostichini. Passiamo adesso con questa scatola alla sottofamiglia Platinine, che sarà divisa in due scatole. In questa qua, che è la prima, ho ottenuto soltanto l'attribù Platinini. Iniziamo... C'è un'ambulanza che passa. Vabbè, iniziamo subito con il genere Platinus, che è quello tipico della sottofamiglia. Questa specie, che è l'unica che ho, è il Platinus teriolensis. Molto particolare perché è veramente piattissima. Le ho trovate soltanto sotto pietra, in montagna, a quote abbastanza elevate. Un genere simile, invece, è Limodromus, più comune in pianura e a media quote, in ambiente forestale. Con le due specie, Limodromus assimilis, che sono queste prime tre righe, e Limodromus crinichi, che sono invece queste ultime due righe. Sono due specie molto simili, che si distinguono soltanto per alcuni dettagli. Comunque, passiamo invece alla... nella seconda colonna. Ho il genere Parancus, con l'unica specie presente in Italia, che è Parancus albipes. Che vive sempre in ambiente forestale, e si trova molto spesso sulle rive di torrenti, assieme ai Bembidini. Poi c'è un'altra specie che sono riuscito a trovare soltanto una volta, che è Loxypselafus obscurus. Questa l'ho trovata soltanto una volta d'inverno in provincia di Cremona. Un'altra specie molto comune stavolta è Lancomenus dorsalis, che è veramente versatile, vive un po' in tutti gli ambienti di pianura. Infatti io l'ho trovata sia sui bordi dei fossi, sia nei campi coltivati, che nei boschi. Insomma, c'è un po' dappertutto. Ed è molto comune, però anche molto bella. Come potete notare, questa colorazione strana serve come meccanismo di difesa, perché imita alcuni brachinini, che ve li farò vedere più avanti, che sono i coleoteri bombardieri, che se disturbati possono secermere una sostanza ad altissima temperatura, e questo è il loro sistema di difesa. Questi qua sono totalmente innocui, però imitano con la colorazione quegli altri insetti, e per questo motivo vengono lasciati in pace. Vabbè, passiamo anche a un'altra specie del genere Ancomenus, che è Lancomenus chaneus. Questo qua vive soltanto sulle sponde dei fiumi, invece. L'ho trovato anche questo soltanto una volta in montagna. Per finire con la seconda colonna, ci sono questi due esemplari non identificati appartenenti al genere Andreuesius. Provengono dalla Cina. Un altro genere, che stavolta si discosta un po' dall'aspetto tipico di questi, il genere Olistopus, di cui ho due specie, nessuna delle quali ho trovato io purtroppo, che sono l'Holistopus glabricollis e l'Holistopus fuscatus. E infine, passiamo al genere che probabilmente comprende la maggioranza delle specie appartenenti alla tribù platinini che ci sono in Italia, che è il genere Agonum, che sono tutti questi. Molte specie di questo genere sono molto simili fra loro, tutti uguali, tutti neri, identici, e si distinguono soltanto sulla base di alcune caratteristiche proprio minori, e bisogna controllare i genitali in sostanza anche qui. E il problema è che non ho ancora trovato un modo sicuro per identificarli. Io li ho messi un po' così. Probabilmente saranno sbagliati, però ve li faccio vedere lo stesso. Allora, partiamo con le specie del sottogenere Agonum. Abbiamo l'Agonum Muelleri, l'Agonum Sordidum della sottospecie Gridelli, poi una specie molto comune, ma comunque molto bella, stavolta inconfondibile, è l'Agonum Marginatum. E infine l'Agonum Nigrum, che iniziamo ad avere le specie tutte nere uguali. Del sottogenere Europhilus, invece, ho l'Agonum Gracile. Passiamo ora al sottogenere Olisares, che comprende le specie veramente tutte uguali, tutte nere. E in più, una cosa che di sicuro non aiuta l'identificazione, molte specie simili convivono. E quindi è un bel casino se si cerca di determinare le specie. Vabbè, io comunque ve le dico, probabilmente sono sbagliate, però pazienza. Allora, c'è l'Agonum Afrum, l'Agonum Permestum, l'Agonum Vidum, e infine una specie stavolta abbastanza inconfondibile, per fortuna, e molto molto bella, che è l'Agonum Sexpuntatum. Guardate che colori, è veramente stupenda. L'esemplare a destra ha praticamente la stessa colorazione del Carabus Olimpie, ed è veramente fantastico. Questa specie si trova con esemplari che hanno una gamma di colori che è veramente fuori di testa. Si passa dal nero, al verde, al rosso, al viola, quindi è veramente stupenda. E con questa chiudo la scatola. Questa è la seconda, e per adesso ultima, scatola dedicata alla sottofamiglia Platinine, in cui tengo la tribù Sfodrini. Di questo gruppo non ho il genere tipico, che sarebbe Sfodrus, perché è molto raro. Per cui iniziamo dal genere Lemosthenus, che occupa le prime due colonne. Sì, ho lasciato un po' di spazio libero, perché sono specie, come vedete, abbastanza grandi, quindi conto di riempirlo abbastanza in fretta. Allora, la prima specie, che è quella un po' più comune, soprattutto in montagna, è il Lemosthenus Iantinus Ceruleus. Una bellissima specie dai colori viola intenso, che io ho trovato molto comunemente sulle Alpi, anche ad alta quota. Poi c'è il Lemosthenus complanatus, il Lemosthenus algerinus, tipica invece del Sud Italia, e poi ho il Lemosthenus lazialis, con due esemplari che provengono appunto dal Lazio. Questa è una specie già più interessante. Poi c'è questa parte, che è dedicata al sottogenere Antisphodrus, che comprende specie molto particolari, in particolare quelle presenti in Italia, perché sono specie adattate alla vita in grotta. Sono specie molto grandi, e questo è abbastanza strano, che si trovano anche abbastanza comunemente, direi, in grotta. Ad esempio, qui c'è l'Antisphodrus Schreibersi, l'Antisphodrus Insubricus, l'Antisphodrus Raisi, dalla sottospecie nominale e dalla sottospecie Boldori, e infine l'ultima specie, che stavolta è estera, che è l'Antisphodrus predictus, che viene dal... Tajikistan. Poi ho la sottotribù Calatina, che come potete vedere comprende abbastanza specie, però tutte del genere Calatus. Per adesso ho soltanto questo genere. Una delle specie più comuni che c'è in Italia è il Calatus fushipes. Qui ho la sottospecie nominale, che in Italia non c'è però, questo viene dalla Francia. La sottospecie signaticornis, che è endemica di Sicilia. E poi quella che è più comune e diffusa un po' in tutta Italia, un po' in tutti gli ambienti, che è il Calatus fushipes grecus. Poi c'è il Calatus montivagus, il Calatus rubripes, e poi passiamo agli altri sottogeneri. Il primo è il sottogenere Amphiginus, con la specie Calatus rotundicollis. Poi c'è il sottogenere Bedelinus, con la specie Calatus circumseptus, che è diffusa più che altro al centro Italia e abbastanza rara al nord. E poi il sottogenere Neocalatus, che comprende alcune delle specie più comuni in Italia, anche in ambienti fortemente antropizzati, tipo io ne ho una popolazione in giardino. Allora, iniziamo con le specie un po' meno rappresentate, che sono il Calatus erratus. Poi c'è il Calatus mollis, che è endemico di Sardegna e Sicilia, mi sembra. Poi c'è il Calatus melanocephalus e il Calatus cinctus. Queste due specie formano una coppia difficilmente distinguibile. Si distinguono soltanto in base a caratteri presenti sui genitali maschili, quindi è veramente molto dura distinguerle. Difatti la maggior parte degli esemplari che ho, soprattutto se sono femmina, sono determinati, ma con delle riserve. E infine, finiamo anche questa scatola, con la sottotribù Atranopsina, che è rappresentata dal genere Platiderus, di cui ho due specie. La prima è il Platiderus rufus transalpinus, e la seconda il Platiderus neapolitanus. E con questa finiamo anche la sottofamiglia Platinine. Passiamo adesso ad uno dei gruppi che più odio, che è quello degli arpalini. Questi animali sono principalmente onnivori, quindi si nutrono anche di materiale vegetale, non sono come molti degli altri carabidi che sono principalmente predatori. In particolare, in questa scatola, tengo le prime specie della tribù Arpalina. Ce ne saranno un po' anche nella prossima scatola. In particolare, questa parte è dedicata soltanto al genere Arpalus, un genere veramente odioso, perché è diffuso ovunque, e sono spesso comunissimi, quindi andrò veloce. Poi, questa colonna è dedicata allo Pseudofonus, con le due specie, vabbè, ve le presenterò. E infine, all'ultima, ci sono altri generi sparsi. Partiamo subito con gli Arpalus, che includono specie comunissime, come Arpalus affinis e Arpalus distinguendus, che si sono adattate a vivere anche in zone antropizzate. Si sono adattate veramente benissimo, si trovano ovunque, nei giardini, per strada, ovunque. Poi c'è l'Arpalus dimidiatus, che è una delle specie più caratteristiche, si riconosce facilmente per questa sua colorazione blu o viola della parte posteriore del pronoto. Poi ci sono varie specie qui, tutte praticamente uguali, che salterò, perché non c'ho voglia di presentarvele tutte. Passiamo subito al genere Pseudofonus. Vi presento la prima specie, che è lo Pseudofonus griseus, e poi lo Pseudofonus rupipes andiamo avanti con il genere Tricoticnus. Questa specie, che è l'unica che ho, è il Tricoticnus levicollis, una specie abbastanza comune, soprattutto in montagna, dove sostituisce in parte gli Arpalus. Poi c'è un genere molto bello, che è il genere Siopelus, di cui ho questi due esemplari, che provengono dall'Africa. In particolare, questa è la prima specie, che è il Siopelus pavoninus, e la seconda è il Siopelus lucens. Devo dire che hanno veramente dei colori fantastici, con quei riflessi iridescenti. Infine, per concludere, c'è il genere Parophonus, con le due specie Parophonus mendax e Parophonus irsutulus. Anche queste specie abbastanza comuni negli ambienti di pianura. E con questo possiamo anche chiudere. Il vicino ha deciso che era il momento giusto per trapanare, sia letteralmente che metaforicamente. Vabbè, passiamo con la seconda parte della sottofamiglia Arpaline, dedicata alla fine della sottotribù Arpalini, in questa colonna, poi ci sarà la sottotribù di Tomina, e infine le ultime due tribù, che sono la tribù Anisodactilini e Stenolofini. Sì, io mi impallo sulle parole più semplici, ma questi nomi riesco a dirli perfettamente. Vabbè, allora, abbiamo qui per iniziare il genere Ofonus o Ofonus Aiphonus, dai, diciamo così, con la specie Ofonus sabulicola, che ho trovato in occasione del mio giro sui colli berici. Andate a vedere il video. Poi c'è il sottogenere Incisofonus, con la specie Incisus, per l'appunto. Abbiamo poi il sottogenere Esperofonus, con una specie molto comune, anche in pianura e in territori antropizzati, io ad esempio la trovo comunemente dietro casa, che è la specie Ofonus azzureus, molto bella appunto per i suoi riflessi metallici di colore azzurro intenso. Infine, per concludere, abbiamo il sottogenere Metofonus, con la sottospec... Eh, c'era la sottospecie, sono partito! ...con la specie Ripicola. Passando a un altro genere molto molto strano, il genere Acinopus, abbiamo delle specie che hanno un capo veramente ingrossato. Non è esattamente la cosa più estrema che si può trovare, vedrete poi, però anche queste specie non scherzano. Questo capo così grosso serve per frantumare, appunto, i semi. Si tratta di specie che si nutrono stavolta di materiale vegetale. È una rarità, oserei dire, all'interno dei carabidi, che per la maggior parte sono specie predatrici di altri insetti, piuttosto che onnivore o completamente vegetariane, diciamo. Vabbè, di questo genere ho la specie Acinopus piccipes, molto comune nell'Italia a sud del Po, occasionalmente può essere introdotta accidentalmente anche nei territori a nord. E poi, una specie molto rara in Italia, e infatti questo esemplare non proviene dall'Italia, proviene dall'estero, che è l'Acinopus ammophilus. Nel nostro paese questa specie è diventata molto rara perché è molto esigente. Si trova soltanto in piccole stazioni e probabilmente gli dedicherò un video più avanti perché purtroppo nel nostro paese è in pericolo di estinzione. Infine, per concludere, abbiamo il genere Daptus con l'unica specie che ho che è il Daptus, Vittatus. Non l'ho trovata io, anche se si trova anche in Italia, e l'ho comprata sempre alla fiera di Modena. Poi abbiamo la sottotribù di Tomina che include le specie presenti in questa colonna e tutte le specie appartenenti a questo gruppo, come gli Acinopus, sono granivore, si nutrono di semi e per questo motivo il loro capo è molto ingrossato proprio perché deve sostenere i potenti muscoli che gli permettono di nutrirsi. Iniziamo subito con il genere tipico che è il genere Dittomus di cui ho soltanto una specie che è la specie Dittomus Clippeatus. C'è poi uno dei generi con i nomi più belli che possiamo trovare che è il genere Ciscerinellus con la specie Cordatus. Queste specie provengono tutte dal centro Italia purtroppo dai Dittomini non ho ancora avuto l'occasione di trovarli dal vivo. Per ultimo, uno dei generi con più specie che ci sono che è il genere Carterus con le due specie che ho che sono il Carterus Fulvipes e il Carterus Calidonius una specie più comune come potete notare. Abbiamo poi in breve la tribù Anisodactilini con la specie Anisodactylus Binotatus e la più rara Anisodactylus Nemorivagus. Ci sono poi i due generi abbastanza simili ma che si possono riconoscere abbastanza facilmente guardando ad esempio al colore del corpo che sono il Diachromus Germanus molto bella con questa colorazione anche se abbastanza comune e poi c'è il genere Ginandromorphus Etruscus. E infine per chiudere l'abbiamo la tribù Stenolofini con quattro generi soltanto che sono il genere Stenolofus quello tipico della tribù di cui ho diverse specie. La più comune è sicuramente lo Stenolofus Teutonus anche questa si trova abbastanza comunemente pure in ambienti antropizzati. Ad esempio sempre io le trovo in campagna intorno a casa. Abbiamo poi lo Stenolofus Scrimshiranus altro nome veramente fantastico lo Stenolofus Persicus e infine lo Stenolofus Discoforus. C'è poi il genere Egadroma che alcuni considerano come sottogenere di Stenolofus e l'unica specie presente in Italia ma molto molto comune è l'Egadroma Marginatum. E per ultimo di questa colonna c'è il genere Bradicellus con le due specie Bradicellus verbasci e il Bradicellus caucasicus. Infine per ultimo c'è il genere Acupalpus che comprende specie di Italia più piccola e dagli stili di vita simili a quelli dei Bembidini infatti molto spesso si trovano sui greti di torrenti e vicino all'acqua. Allora, di queste ho tre specie che sono l'Acupalpus maculatus l'Acupalpus parvulus e infine l'Acupalpus interstizialis. E con questo abbiamo finito anche la sottofamiglia Arpaline. Questa qui è la mia scatola dei Licinini, Oodini e Clenini. Ho messo insieme queste tre sottofamiglie perché sono tutte molto simili e in passato o almeno anche per alcuni autori adesso sono considerate tutte parte della sottofamiglia Licinine. Ora, la maggior parte delle specie che ho qui sono italiane ma alcune le ho prese anche da alcuni venditori che vendevano roba estera tipo queste e direi che alcune tra le specie più interessanti sono di sicuro il Licinus silphodes perché ha delle mandibole molto particolari che servono un po' come apriscatole quasi per mangiare le chiocciole e rompere i gusci un po' a mo' proprio di apriscatole. Poi abbiamo, vabbè, alcuni Badister che sono simili ai Licinus e questa invece è una Diplochaela che è un altro genere di Licinini dalla forma molto strana ma comunque riconoscibile per la forma particolare delle mandibole e questo qua invece viene dal sud-est asiatico. Poi per gli Odinio qui le due specie italiane di questa sottofamiglia Odes elopioides e Odes gracilis e poi ci sono un po' tutti i Clenini a partire dal Clenius vellutinus che è una delle specie più comuni che ci sono in Italia. Poi c'è anche il Clenius festivus molto simile alcune specie tropicali in particolare queste vengono dall'Africa poi c'è un'altra specie molto comune che è il Clenius spoliatus qui sono sempre specie tropicali questa volta dal sud-est asiatico che appartengono al sottogenere Lysauchenius e poi c'è questa che è uno degli insetti che ho in collezione che sinceramente mi piacciono di più per i colori è il Clenius crisocephalus presente anche in Italia è veramente stupenda come specie o poi saltando un po' arriviamo al genere Dinodes un'altra specie dalla colorazione veramente stupenda presente in Italia e poi c'è il genere Cleniellus con alcune specie tutte queste sono italiane non mi ricordo se ci sono anche specie non europee di questo genere vabbè, comunque c'è il Clenius e il Cleniellus scusate, vestitus che è anche questa è una delle specie più comuni un po' in tutta Italia poi c'è il Cleniellus olivieri comune però soltanto nei territori a sud del fiume Po poi c'è il Cleniellus nitidulus una specie comune che però io trovo soltanto ogni tanto non so come mai e infine la specie più rara che c'è del genere che è il Cleniellus tristis un tempo era comune ma dato che vive in ambienti di bassa quota e in particolare dove c'è come si dice nei pressi dei fiumi in zone molto umide questi ambienti sono stati molto sfruttati nel corso del tempo e quindi la specie si è man mano rarefatta questi esemplari vengono dal Friuli e infine anche qui un animale veramente bellissimo il Callistus lunatus una specie anche questa abbastanza in rarefazione che vive nelle zone umide di pianura io ho avuto la fortuna di trovare questi tre vicino a dove abito e è stata veramente una botte di culo che tra l'altro ho anche registrato in un video si sentono tutti i miei urletti vabbè magari vi metto anche qui il link qui sopra e questa era la mia scatola dei licinine in senso lato passiamo ad ora ad una scatola veramente molto affollata che probabilmente in futuro dovrò dividere in due dato che continuano ad arrivarmi esemplari e anch'io continuo a comprarne sì, vabbè è la scatola dedicata alla sottofamiglia Le Bine come potete notare questa scatola è divisa in moltissimi gruppi diversi ma la classificazione non è univoca e molti dicono cose praticamente diversissime fra di loro pertanto io evito di separarli in gruppi vi dirò soltanto i generi così facciamo anche un po' più in fretta allora, prima di tutto abbiamo il genere Lebia che è quello tipico della sottofamiglia con l'unica specie che ho che è la Lebia scapularis un genere simile poi è il genere Lamprias con la bellissima specie Lamprias cianocefalus l'ho trovata soltanto una volta poi non l'ho più vista sinceramente poi abbiamo il genere Cimindis con diverse specie che sono diffuse un po' in tutta Italia abbiamo la Cimindis axillaris la Cimindis humeralis la Cingulata la Cimindis coadunata con le due sottospecie strasseri e pseudomaculata e infine per un altro sottogenere che è il sottogenere Tenidius eh, ciao ho sbagliato a leggere Taurulus abbiamo la Cimindis vaporariorum poi abbiamo un genere che ho acquistato perché proviene dall'estero che è il genere Fisodera con la bellissima specie Fisodera escholzi non sto scherzando è scritto ESCHOLTzi e non so a chi abbia dato questo nome orribile ad una specie così bella però... va bene poi passiamo a un genere veramente molto bello che è il genere Demetrias queste specie vivono per la maggior parte nei Fragmiteti ovvero in habitat umidi, paludosi dove ci sono molte canne di paluden in particolare questi esemplari possono essere trovati anche d'inverno mentre si rifugiano all'interno proprio delle canne di palude per proteggersi dal freddo in particolare qui ho le tre specie Atricapillus come potete vedere è un po' più comune Monostigma anche questa non rarissima negli ambienti abbastanza preservati dove c'è e infine quella molto più rara delle altre che è la Demetrias imperialis vabbè poi abbiamo i Leonicus quadrillum che è una specie che si rinviene di frequente lungo gli argini ciottolosi dei fiumi assieme anche a molti bembidini infatti io la prima volta che li ho visti li ho scambiati per bembidini comunque è una specie veramente comunissima un po' in tutta Italia dalla montagna fino al fondo valle anche ai fiumi di pianura insomma è una specie banalissima vabbè poi ci sono il genere Dromius e simili abbiamo il Dromius quadrimaculatus il Paradromius linearis e poi tre generi veramente molto simili dalle specie praticamente tutte uguali fra di loro si ristinguono soltanto per alcuni caratteri secondari praticamente sono il genere Sintomus con le tre specie Impressus Truncatellus ok stavo leggendo male e infine Obscurogutatus poi c'è il genere Philorizus con la specie Crucifer anche se non sono esattamente sicuro in realtà se si tratta proprio di esemplari di questa specie perché appunto sono tutte molto molto simili e infine il genere Microlestes con parecchie specie molto comuni anche a volte in ambienti antropizzati abbiamo il Microlestes luctuosus corticalis poi il Minutulus e poi le ultime due che sono il Fulvibasis e il Microlestes seladon poi abbiamo l'unico esemplare del genere Calleida che ho che è la Calleida Splendidula proviene anche questo dalle Filippine e poi nell'ultima colonna ho esemplari praticamente che provengono tutti dall'estero il primo genere è il genere Pericalus con le specie Pericalus levifrons e Pericalus filippinus anche queste potete immaginare da dove vengono ho poi il genere Coptoderan con una specie non identificata e infine il genere Catascopus l'unica specie che ho per adesso è il Catascopus elegans filippinus infine per chiudere in bellezza sicuramente le avrete già notati ho uno dei generi di Carabidi più grandi al mondo anche in questo caso è sicuramente uno dei più strani che è il Mormolice questa specie è il Mormolice Philodes e proviene dall'Indonesia sono delle bestie veramente stranissime hanno un capo lunghissimo e delle elitre appiattite hanno la forma quasi di un violino difatti il nome comune di questi insetti uno dei pochi Carabidi ad avere un nome comune anche in italiano è insetto violino si credeva una specie rarissima poi si è scoperto che veniva attirata dalla luce e quindi si è capito che erano comunissimi soltanto difficili da trovare perché vivono sugli alberi nelle foreste tropicali bene, con questa bellissima specie possiamo chiudere anche la scatola dei Lebini passiamo adesso a questa scatola che è dedicata alla sottofamiglia scaritine e alla sottofamiglia broscine ho preferito separare queste due sottofamiglie in una scatola a parte per non ammassare troppa roba in una scatola dato che prima o poi comunque questa la riempirò allora, iniziamo subito con la sottofamiglia scaritine la tribù è quella nominale, quella degli scaritini e il primo genere è il genere parallelomorphus questa specie è il parallelomorphus terricola vive nella sabbia dove scava cunicoli anzi, praticamente tutti gli scaritini sono specie fossorie cioè scavano cunicoli nella sabbia o nel terreno in particolare i parallelomorphus sono specie costiere che vivono appunto sulle spiagge sabbiose o sulle dune in generale poi c'è un altro genere simile e anche questo dalle abitudini di vita simili che è il genere discirius con la specie discirius planus passando invece a una specie estera abbiamo il Paratlibops con la specie Paratlibops bakukang questo viene dalle Filippine passiamo invece alla tribù di Schirini anche queste specie sono fossorie e in genere si trovano lungo le spiagge sabbiose di torrenti o fiumi sono particolari perché per trovarle in genere si inonda anche con le mani le parti in cui c'è la sabbia e questi qui, credendo che si tratti di un'inondazione proprio escono fuori e cercano di scappare volando allora, l'unico genere che ho è il genere disciriodes le specie sono il disciriodes agnatus il disciriodes abditus che è una specie abbastanza rara e poi il disciriodes gracilis per ultima c'è la tribù clivinini di cui ho il genere clivina che è quello un po' più comune e che è anche un po' più adattabile tipo io questi li trovo anche nei campi coltivati ad esempio abbiamo la clivina fossor me la sono trovata pure in giardino una volta e poi la clivina collaris e per ultime due specie di un genere veramente bellissimo che è il genere tiflora ikea anche queste si tratta di specie fossorie però hanno una particolarità vivono soltanto nel terreno profondo si tratta di endogei infatti la maggior parte delle specie si può trovare soltanto al vaglio oppure prelevando la terra da in profondità per poi lavarla a casa si è un lavoraccio per far uscire questi petotti qua che sono piccolissimi e veramente molto belli incredibilmente adattati un po' come gli anillini che vi ho già fatto vedere per la vita in questo ambiente sono veramente stupendi e tra l'altro entrambe queste specie provengono dalla Sardegna dove ci sono moltissime specie endemiche comunque sono la tiflora ikea iukunda e la tiflora ikea monticola e infine per chiudere abbiamo la sottofamiglia broscine con le uniche due specie presenti in Europa del genere broscosoma delle quali una vi ho fatto anche vedere in un video quello sul monte baldo in cui ne trovavo alcuni esemplari ecco, quelli erano della specie broscosoma baldense sottospecie baldense c'è un'altra specie diffusa più ad ovest che è il broscosoma relictum di cui anche qui ho alcuni esemplari queste specie si trovano solitamente in alta montagna sotto le pietre e non sono così comuni però se si trova il posto in cui ci sono ce ne sono veramente tanti ve lo assicuro bene, con questo abbiamo finito anche questa scatola allora, iniziamo con questa scatola la presentazione di uno dei gruppi di carabidi che in assoluto preferisco assieme ai trecchini sto parlando della sottofamiglia cicindeline che sarà presente in questa e nelle prossime due scatole in particolare questa prima scatola è dedicata interamente alla sottotribù cicindelina che è quella principale della sottofamiglia e che include alcune delle specie più interessanti e più belle anche sotto il profilo semplicemente estetico allora, la maggior parte delle specie di cicindelini sono diurne e sono tutte predatrici come noterete poi dalle mandibole impressionanti che hanno il fatto che sono diurne si può dedurre anche dal fatto che hanno degli occhi veramente grandi e una vista eccellente iniziamo subito con il genere tipico della sottofamiglia che è il genere cicindela con la specie, una delle più comuni presenti in Italia cicindela campestris è una specie che vive principalmente in prati molto assolati è abbastanza diffusa un po' in tutto il territorio questa è la sottospecie nominale presente in tutta la penisola tranne nelle isole questa qui invece è la sottospecie nigrita forse è ancora più bella perché i suoi colori sono ancora più accesi ed è presente soltanto in Sardegna e Corsica c'è poi la sottospecie pontica che viene invece dall'Europa dell'Est abbiamo poi un'altra specie che è la cicindela ibrida con la sottospecie nominale che non è presente in Italia infatti questi esemplari provengono dai Paesi Bassi e poi dalla sottospecie transversalis che è quella presente sul territorio italiano e come potete notare negli ambienti dove si trova è abbastanza comune una specie più rara che però vive negli stessi ambienti e a volte convive con la cicindela ibrida è la cicindela maialis un po' più piccola abbiamo poi la cicindela silvestris che vive invece in ambienti boschivi si può trovare spesso lungo i sentieri e infine una specie molto molto bella è la cicindela gallica questa specie che mi è capitato di incontrarla soltanto una volta in Piemonte in realtà è diffusa un po' in tutto l'arco alpino ad esempio questi esemplari non li ho trovati io mi sono stati gentilmente dati e provengono dalla provincia di Bergamo tutte queste specie erano specie presenti in Italia e appartenevano al sottogenere cicindela passiamo invece a un altro sottogenere il sottogenere cosmodela per una specie invece presente nel sud-est asiatico la cicindela aurulenta questi esemplari provengono da Bali abbiamo poi alcuni dei rappresentanti più impressionanti del genere soprattutto per i loro colori che sono le specie del sottogenere soffiodela in particolare questa è la cicindela kinensis della sottospecie nominale e della sottospecie flammifera veramente impressionante altro genere molto diffuso è il genere calomera queste specie sono specie invece tipicamente di ambienti costieri ad esempio la calomera littoralis che ho qui con la sottospecie nominale littoralis con la sottospecie fiori presente in Sardegna e con la sottospecie aulicoides e nemoralis che è quella più comune sul territorio italiano sono tutte specie che vivono sulle spiagge sabbiose e anche per questo motivo si stanno un po' rifacendo anche se questa è comunque la specie più comune a causa dello sfruttamento dovuto al turismo di questi ambienti abbiamo poi la calomera lugens presente soltanto in alcune isole del sud Italia e tipica invece di spiagge un po' più rocciose rispetto alla littoralis c'è poi questa specie che è la specie calomera lacrimosa proviene invece dal sud-est asiatico in particolare dalle Filippine insieme anche a questa che è la calomera Mindanaoensis ok, sono riuscito a dirlo un genere simile alle calomera è il genere Chetodera che comprende la specie africana Chetodera regalis e infine per completare la colonna abbiamo la Lofira questo genere è un genere molto simile sempre a calomera tanto che il genere calomera un tempo era incluso come sottogenere di Lofira e questa specie che proviene dalla Sardegna è la Lofira flexuosa una specie veramente molto bella anche questa non tanto per i colori quanto più perché le macchie sembrano veramente disegnate hanno pure un contorno molto carina abbiamo poi un altro genere sempre simile e sempre sardo che è il genere Cefalota con la specie Cefalota litorea sottospecie Goudoti e la specie Cefalota circumdata sottospecie Imperialis passiamo poi a specie un po' diverse con il genere Cilindera un altro genere molto diffuso presente praticamente dall'Italia fino al sud-est asiatico con una quantità enorme di specie iniziamo con quella un po' più comune in Italia che è la Cilindera germanica che mi è capitato di trovare durante un video vi rimando sempre a quello è una delle specie più comuni in Italia che vive nei prati assolati e poi ho anche altre due specie sempre appartenenti al sottogenere Cilindera che provengono invece dal sud-est asiatico sono la Cilindera della Vai e la Cilindera Eoa dalle Filippine di un bellissimo colore blu intenso c'è poi il sottogenere Plecto... non riesco a dirlo Plectografa con la specie Cilindera Apiata proveniente invece dal Sud America e infine il sottogenere Eugrafa con la specie Cilindera Trisignata questa specie è presente anche in Italia vive negli stessi ambienti della Calomera Littoralis Passando a generi abbastanza simili abbiamo la Miriochile Melancolica presente anche in Italia e poi una specie bellissima che è Labroscelimorpha dorsalis questa proviene dagli Stati Uniti e questa sottospecie che è la Saulci è di un bellissimo colore avorio anche questa vive sulle spiagge marine c'è poi una specie africana che è Labrodera Nitidula questi esemplari provengono dal Senegal e infine una delle specie più impressionanti di questa scatola è la Abroscelis Tenwipes Araneipes guardate che zampe! immaginate che incubo deve essere catturarle questi animali qui come corrono veloce sulla sabbia veramente, veramente splendida questi provengono dalle Filippine e infine per concludere abbiamo il genere Topeutica con specie sempre dal sud-est asiatico con la specie Topeutica Interposita e la specie Topeutica Perconspicua e con questo abbiamo finalmente chiuso questa scatola passiamo ora alla seconda scatola dedicata alla sottofamiglia Cecindeline in cui concludo la tribù Cecindelini con le due sottotribù Protimina e Tiratina e in cui c'è la tribù Megacefalini che mi rendo conto sia un po' vuota però conto di riempirla appena finisco di risistemare le scatole magazzino e ritorno alla fiera di Modena a fare nuovi acquisti vabbè, iniziamo subito con il genere Eptodonta appartenente alla sottotribù Protimina che proviene dal sud-est asiatico queste sono tutte specie che in Italia purtroppo non ci sono allora, abbiamo Leptodonta analis presente in Indonesia poi c'è Leptodonta lumawigi dalle Filippine e infine Leptodonta melanopiga sempre dalle Filippine Leptodonta sono tutte abbastanza simili si distinguono per alcuni caratteri e almeno io le distingo in base alla provenienza da diverse isole di quegli arcipelaghi che ci sono in sud-est asiatico provengono diverse specie vabbè, passiamo ora alla sottotribù Teratina molto interessante perché comprende specie che sono arboricole e questo è strano all'interno dei cicindelini che di solito sono predatori terricoli allora, in questa sottotribù c'è soltanto un genere che è il genere Terates con diverse specie la maggior parte proviene dalle Filippine perché c'è un venditore delle Filippine da cui compro vabbè, abbiamo la Terates labiatus poi c'è la Terates coracinus la Terates fasciatus, molto bella e infine la Terates fulvipennis everetti anche queste sono tutte specie veramente strane con questi occhi così sporgenti ma vi assicuro che c'è di peggio in quanto stranezza nella prossima scatola bene, passiamo adesso alla Tribù Megacefalini con le sole tre specie che ho per adesso ma vabbè allora, il primo genere è il genere Megacefala con... nel sottogenere Megacefala con la specie Megacefala si lo so, siamo un po' carenti di fantasia ogni tanto però... vabbè comunque questa è una specie poi l'altra è la Megacefala regalis della sottospecie Benigseni queste sono due specie presenti in Africa e poi ho una specie che viene invece dagli Stati Uniti che è la Megacefala o tetraca adesso c'è un problema riguardo a questi generi non si sa bene se tetraca è un genere o un sottogenere comunque... e la specie è Megacefala carolina molto bella proviene dagli Stati Uniti dove ci sono diverse sottospecie buono, abbiamo concluso anche questa e ora passiamo alla terza e ultima scatola di cicindelini questa è la terza ed ultima scatola di cicindelini in cui tengo le specie della tribù Colliridini questa è una delle tribù più particolari di cicindelini che ci sono la maggior parte delle specie sono arboricole e questo è già molto strano per di più hanno questa forma allungatissima del corpo io a volte per scherzare le chiamo le supposte ambulanti perché vedrete quando vi faccio vedere soprattutto il genere Neocoliris da cui partiamo allora, abbiamo prima di tutto la Neocoliris bonelli una specie abbastanza diffusa nel sud-est asiatico è veramente molto molto bella poi c'è la Neocoliris oricalcina con questi suoi colori veramente incredibili prima un appunto ovviamente nessuno di questi esemplari l'ho mai preso io perché non sono ancora andato a fare viaggi nel sud-est asiatico oppure anche in Madagascar e in Sud America dove ci sono altri due generi molto particolari ma che non ho ancora poi c'è continuando la Neocoliris albitarsis o almeno credo che sia questa specie perché sono molto difficili da identificare i colliridini e infine per chiudere questa prima colonna nel sottogenere Brachy colliris c'è una specie veramente incredibile che è la Neocoliris purpureo maculata io lascio parlare le immagini c'è poi il sottogenere Eterocoliris con le specie un po' più grandi che sono la Neocoliris acrolia la Neocoliris affinis e infine la Neocoliris similior queste tre specie provengono tutte dalle Filippine abbiamo poi il secondo ed ultimo genere che è il genere Tricondila anche questo molto diffuso in Indonesia o nel sud-est asiatico e la prima specie che è quella anche questa un po' più diffusa e più comune è la Tricondila aptera questa in particolare è la sottospecie aptera e poi ho due esemplari della sottospecie ventricosa poi c'è la Tricondila melli e la Tricondila gestroi più piccola poi ho questo esemplare qui che è di Tricondila beccari sottospecie cassolai che è mezzo distrutto non so cosa sia successo ho fatto probabilmente un problema nella spedizione comunque mi è arrivato praticamente disintegrato e lì l'ho un po' ricomposto e io l'ho anche pagato vabbè, pazienza c'è poi la Tricondila conicicollis dalle Filippine e poi altri due sottogeneri il primo è il sottogenere pseudotricondila con la specie Tricondila planiceps molto carina e infine il sottogenere stenotricondila con la Tricondila chanipes e con queste specie molto molto strane chiudiamo anche i cicindelini e iniziamo con le ultime scatole di carabidi che sono quelle un po' più incasinate perché ci metto dentro i gruppi di cui ho talmente poche specie che non aveva senso fare cassette dedicate soltanto a loro in pratica in questa singola cassetta ci sono la sottofamiglia odacantine perigonine ciclosomine driptine zuffine panageine elafrine apotomine e omofronine sarà una cosa veloce come vedete non ci sono troppe specie allora iniziamo subito con gli odacantini con i due generi che ho che sono odacanta la specie è odacanta melanura che credo sia anche l'unica presente in italia di questo gruppo ed è particolare perché un po' come le Demetrias che vi ho già fatto vedere nella scatola dei lebini si può trovare all'interno delle canne di palude vive in ambienti umidi e in questo ambiente appunto dentro le dentro queste piante che sono cave all'interno si nutre di altri insetti che vivono qui ad esempio delle larve di itteri o i menotteri molto interessante poi abbiamo il genere ofionea che viene dall'estero in particolare ho le due specie indica con questo esemplare che proviene dall'India e l'ofionea o asci questa invece proviene dalle Filippine poi c'è la sottofamiglia perigonine con l'unica specie che ho identificata almeno che è la perigona orni che proviene sempre dalle Filippine e poi due esemplari non identificati dello stesso genere poi ci sono i ciclosomini con il genere tetragonoderus la specie non è identificata e poi il genere discoptera molto molto strano che proviene dal Turkmenistan questo qua proviene dal Turkmenistan e che ho acquistato sempre alla fiera di Modena la specie è discoptera comarovi si è molto strana è il carabide frisbee ecco chiamiamolo così poi c'è la sottofamiglia driptine che include un paio di specie presenti in Italia delle due però ho soltanto la dripta dentata l'altra specie appartiene a un altro genere o sottogenere dipende da come lo trattiamo che è il sottogenere deserida che però è rappresentato qui da una specie filippina che è la dripta o deserida se consideriamo questo come un genere della specie lineola sottospecie filippensis c'è poi la sottofamiglia Zufine il primo genere è il genere Zufium con la specie Zufium Olens presente anche in Italia e che ha una particolarità è piattissima forse vi starò facendo vedere adesso un filmato ma è veramente impressionante quanto è piatta c'è poi il genere Planetes con la specie Planetes ruficeps anche questa proviene dal sud est asiatico passando poi alla sottofamiglia Panageine abbiamo il genere Panageus con la specie Cruxmajor presente in Italia e in realtà abbastanza difficile da trovare io non l'ho mai vista e questo esemplare mi è stato dato c'è poi il genere Teflus che comprende alcuni dei carabidi più grandi che ci sono al mondo e questa specie forse perché non è assolutamente sicuro ma in teoria dovrebbe essere lei è il Teflus Meierlei o Meierlei non so come si pronuncia proviene dall'Africa poi c'è anche la sottofamiglia Elafrine con l'unica specie che ho anche questa non l'ho trovata io ma l'ho acquistata a Modena sì, sono abbastanza sfigato in quanto riguarda questi animali vabbè questa specie è la Bletisa multipunktata presente anche marginalmente in Italia e più comune in altre parti d'Europa c'è poi la sottofamiglia Apotomine con la specie Apotomus rufus presente in Italia ma che come al solito non l'ho mai trovato e qui stanno trapanando ovviamente perché... vabbè dai spero non dia fastidio anche il suono del trapano vabbè poi infine per ultima c'è la sottofamiglia Omofronine che include uno dei carabidi più belli che io credo che esistano perché... è veramente stupendo l'Homofron Limbatum allora immaginate un carabide a forma di semisfera con il pattern di colori di una coccinella che corre come un demonio sulla sabbia ecco questo è l'Homofron ed è bellissimo l'ho fatto vedere anche in un video sono riuscito a trovarlo incredibilmente nel video del parco del Ticino in cui si vede proprio la sua velocità nel correre perché l'ho messo in un barattolo e questo ovviamente stava continuando a correre e chiudiamo anche questa scatola vi assicuro che stiamo per finire questa è la penultima scatola almeno fra quelle preparate recentemente in questa chiudo oserei dire finalmente la famiglia dei carabidi e in più tengo anche la famiglia degli aliplidi e dei ditiscidi che non sapevo dove mettere allora iniziamo subito con la prima sottofamiglia che è la sottofamiglia Brachinine questo gruppo di carabidi è veramente particolare più che altro per il loro sistema di difesa infatti hanno nell'addome due ghiandole che producono due sostanze chimiche diverse e le tengono separate quando si sentono in pericolo le mischiano e questo causa una reazione chimica che libera una quantità di calore spaventosa loro a quel punto spruzzano il liquido che ha raggiunto il punto di ebollizione sugli aggressori e questo se si tratta di aggressori di piccole dimensioni può risultare anche fatale immaginate un liquido è veramente caldissimo e io l'ho anche provato sulla mia pelle cercando di prendere questo esemplare allora vabbè iniziamo subito con il genere Brachinus che occupa la prima colonna ho le specie Brachinus crepitans Brachinus plagiatus e Brachinus psofia che è quello che mi ha spruzzato poi c'è un altro sottogenere che è il sottogenere Brachinidius con le specie Brachinus sclopetam e il Brachinus glabratus e inoltre anche il Brachinus nigricornis poi c'è il sottogenere Cneco… Cnec… , non riesco a dirlo Cneno… Cneco… Cnecóstolus ok ce l'ho fatta Cnecóstolus con la specie Brachinus excelans e infine il Brachinus Brachinoptinus italicus Poi abbiamo il genere Aptinus, con la specie Aptinus bombarda, questi esemplari provengono dalla Croazia ma è presente anche in Italia. E poi il genere Feropsofus, con questa specie che è molto grande e non immagino cosa ti fa se lo prendi, madonna, è il Feropsofus javanus, molto comune nel sud-est asiatico, e poi una specie non identificata dall'Africa. Abbiamo poi due sottofamiglie molto molto particolari che in realtà molto spesso vengono considerate addirittura come famiglie a parte. Prima di tutto abbiamo la sottofamiglia Paussine, con il genere Paussus. Questa è l'unica specie che ho, è il Paussus spinicopsis. In particolare questo esemplare si chiama Laura, Laura Paussini. Poi c'è la sottofamiglia Risodine, con l'unico genere che ho, e non l'ho trovato io perché sono molto difficili da trovare, è il genere Clinidium e la specie è Clinidium canaliculatum, una delle tre specie che sono presenti in Italia di questo gruppo. E con questo abbiamo finito i carabidi! Applausi, applausi. Allora, iniziamo adesso con la famiglia degli Aliplidi che è molto... sarà molto corta perché ho soltanto due specie. La prima è Aliplus rufficollis e la seconda è il Peltodites rotundatus. Queste specie sono acquatiche, si trovano nelle acque ferme o comunque con corrente non troppo veloce e non sono in grado di nuotare bene in realtà, si tengono aggrappati alle piante acquatiche. I veri nuotatori sono invece i Diticidi. Questa è una famiglia molto diffusa. Abbiamo prima di tutto il genere Agabus, con le quattro specie che ho, che sono Agabus congener, Agabus laponicus, Agabus bipustulatus, molto comune anche in acque veramente inquinate, io lo trovavo nelle pozzangare, tipo tanto per dire. E infine Agabus didimus. C'è poi il genere Illibius con la specie Illibius calconatus e Illibius fuliginosus e poi altri tre generi appartenenti alla sottofamiglia Idroporine, mentre quelli di prima erano della sottofamiglia Agabine. Allora abbiamo qui l'Hidroporus, scusate, Limbatus e poi anche il Nebrioporus luctuosus. Infine per chiudere abbiamo una specie molto molto piccola, che è l'Hidroglyphus gemius. E con questo direi di passare all'ultima scatola, sistemata bene. E per concludere la serie di scatole che ho già sistemato e sono abbastanza in ordine, questa è un allarme che è partito. Stavo dicendo. Questa è la mia scatola dei Girinidi, un'altra famiglia di coleotteri adefagi, abbastanza simili ai Carabidi, quindi, e della quale in realtà ho abbastanza pochi esemplari perché non li ho ancora trovati, non ho ancora avuto una singola occasione in cui vederli dal vivo. Tutti gli esemplari che ho li ho o acquistati oppure me li hanno dati attraverso scambi. Allora, partiamo subito con uno dei generi che la fa da padrone in Italia in quanto a specie, il genere Girinus, con varie specie, tra cui il Girinus Caspius, molto particolare perché ha una forma molto allungata e con le elitre troncate. Poi uno un po' più raro è il Girinus Deiani, c'è poi il Girinus Natator, che credo che questi esemplari in realtà vengano dai Paesi Bassi, infatti. Poi c'è il Girinus Substriatus e infine la specie che è più comune sul territorio italiano, che è il Girinus Urinator. Quasi tutti questi esemplari provengono dal Lazio, da cui me ne hanno dati, credo anche diverse bustine, diverse provette con esemplari, io li ho preparati tutti perché non ho niente da fare. E poi io li adoro questi animaletti qua, sono troppo comici dai. Vabbè, il secondo genere presente in Italia è l'Aulonogirus, simile ai Girinus ma a mio parere molto più bello per i suoi colori, con la specie Aulonogirus striatus. Ce n'è anche una seconda che però non ho ancora. L'ultima specie, facendo un piccolo salto, l'ultima specie che è presente in Italia è questa, che è l'Orectochilus villosus, cosa, inconfondibile appunto perché il corpo è ricoperto di una sottile peluria ed è molto più allungato che nelle altre specie. Questa specie, a differenza di queste, ama vivere nelle acque più correnti, infatti uno dei due esemplari, il primo, è forse l'unico Girinide che ho visto vivo, non l'ho catturato io, però me l'hanno portato e l'avevano trovato nel giro d'acqua che si era formato praticamente in mezzo a un fiume. E vive in questi ambienti qui, a differenza delle altre specie che prediligono ambienti di acque più calme, come ad esempio pozze o anche fossi. Ora, passando invece alle specie estere che ho già identificato, che sono queste tre, nella tribù Enidrini c'è il genere di Neutus, un genere molto diffuso nelle Americhe, in Africa e anche in Asia. Qui ho le due specie, Dineutus longimanus cubensis, che viene da Cuba, e Dineutus solitarius, questa specie invece è messicana. E infine il genere che più preferisco all'interno dei Girinidi, il genere Porrorincus. Io non dico niente, guardateli voi quanto sono assurdi questi animali! Questa specie è il Porrorincus marginatus e proviene dal sudest asiatico, ed è, credo, uno degli insetti più comici che io abbia mai visto, sinceramente. Dai, è Pinocchio praticamente! Vabbè dai, con questa abbiamo finito le scatole ordinate della mia collezione, e adesso si passa alle scatole del magazzino. Ok, queste due parti, questa è la prossima, la registro soltanto in audio, e metterò come sfondo una foto della teca, perché io ho provato a registrarla normalmente come le altre, ma non è uscita molto bene, e se dovessi aspettare che di avere le condizioni giuste per registrare tutto, ancora una volta, sto video uscirà l'anno prossimo. E niente, comunque, questa che vedete è la mia teca a magazzino che ho destinato a contenere le specie di coleotteri e di altri insetti che non siano adefagi che ho determinate. Iniziamo subito all'inizio, ho due libellule che ho preso totalmente a caso, vabbè. Poi ho alcuni dermatteri, tra cui queste qui che sono anecura bipunctata e anche una chelidura acantopigia, molto carina. Poi qui ho anche alcuni emitteri, tra cui una cicala presa in occasione del video che avevo fatto sui colliberici. Poi di altri emitteri carini ci sono la cimice milanista, ovvero grafosoma italicum, e questo che è il coranus griseus, una specie di cimice assassina. Poi, vabbè, ci sono un paio di menotteri. Questi qui sono due calabroni, quindi Vespa-Crabro. E adesso passiamo al resto, che sono tutti coleotteri. Allora, iniziamo subito con degli scarabedi, in particolare questo è un Geotrupes stercorarius, una specie molto grande e molto carina, che ho trovato in occasione di un altro video, quello sul colle San Zeno, dovrebbe... ve lo lascerò comunque qui sopra. Poi un'altra specie molto molto bella di Geotrupide è questa, che è il Tripocopris Pyreneus, dai colori veramente stupendi. Poi, un animaletto all'apparenza simile, ma che in realtà appartiene ad un'altra famiglia ancora, è il Pentodon Bidens. Questa specie è molto comune in Italia, si trova anche in zone antropizzate. È parente, diciamo, del Dinastes Hercules, ovvero lo Scarabeo Ercole. Appartengono tutti e due alla famiglia dei dinastidi. Però questa è molto molto più insulsa. Poi passiamo alle... come si dice, ai comuni maggiolini, diciamo, di cui ho due specie. Una è l'Anoxia matudinalis e l'altra è l'Anfimallon assimile, il classico maggiolino che si trova anche in pianura, quelli piccoli. Poi ci sono i cetonidi, che sono un po' effettivamente, però alla fine le specie un po' più comuni, diciamo, sono la cetonia aurata e le sue parenti un po' più grandi, che sono, ad esempio, le protezia. Ad esempio, questa qui è una protezia speciosissima. Poi ho anche un Lucanide, quindi parente del Lucanus Servus, che però è protetto. Questo qui è un Dorcus parallelepipedus, sempre una specie molto comune in pianura. Poi ho anche alcuni buprestidi, tra cui questa, molto molto bella, che è la Capnodis tenebrionis, sempre presa sui colliberici. E poi passiamo ai Cerambicidi. Di questo gruppo in realtà non tengo molte specie, ma siccome ne trovo parecchi, alcuni me li sono tenuti. Vabbè, iniziamo con questo che è un Monocamos sartor, una classica specie di montagna. Ad esempio, questi li ho trovati sulle Alpi. Poi c'è anche questa, molto bella, che si trova sui fiori, spesso, che è la Pachita quadrimaculata. E poi ci sono specie come questa, che è il Clorophorus varius, che utilizza questa colorazione gialla e nera per imitare molti menotteri, che sono molto più pericolosi di questi animali, che sono praticamente innocui, e in questo modo sfuggire ai predatori. Poi, che altro c'è di interessante? Ah sì, questi qua sono degli Antribidi, della specie Platirinus resinosus, e come forse intuirete, questa forma del corpo, questa colorazione, serve ad imitare le cacche di uccello. Sì, esattamente questo, un altro modo per nascondersi alla vista dei predatori. Poi qui, subito sotto, ci sono anche due lucciole, della specie lucciola italica. E subito sotto ci sono tre rinchitidi, un gruppo simile ai curculionidi, che è il prossimo che vi farò vedere. E di questo gruppo, una specie molto molto bella è il Rinchites auratus. Passiamo adesso ai curculionidi, di cui ho alcune specie, e ad esempio un classico curculionide è questo, che è il Lepirus palustris, una specie abbastanza comune. Poi, subito di fianco, c'è un Liparus, una specie molto più grande, in questo caso è un Liparus engandinensis, che ho trovato in montagna, e subito sotto un Lixus, della specie Lixus vilis. Poi, vabbè, ci sono questi due cartellini che contengono delle specie di palline. In realtà, questi sono i resti di esemplari morti di due specie di coleotteri curculionidi che vivono in grotta. In particolare, questo è il Baldorhincus grottoloi, e questo è il Baldorhincus deceptor, di cui ho anche alcune zampe, a differenza del primo. Di questi qua, purtroppo, ho trovato soltanto i resti, che sono questi qui. Poi, ci sono alcune specie molto molto belle, ovviamente non italiane, sono specie tropicali, appartenenti al genere Pacchirrincus. Questa qua, con gli occhi su tutto il corpo, è il Pacchirrincus congestus, e l'altra è il Pacchirrincus sul Fureo maculatum. Poi, qui ho anche alcuni Crisomelidi, ad esempio, credo che questo sia uno dei più interessanti, appartiene alla specie Cassida alpina, trovato in montagna, e questo gruppo di insetti è particolare perché ha il corpo che è appiattito ai lati in una maniera assurda, e come difesa si appiccicano al sostegno dove si trovano, ad esempio una pianta, un sasso o così, e mantengono la presa, e in questo modo non offrono appigli per un eventuale predatore per tirarlo via, e sono veramente impressionanti. Poi, qui sotto, ho anche tre Elateridim, ad esempio ho questa specie che è Agrypnus murinus, una specie veramente comunissima in moltissimi ambienti, dalla pianura alla montagna, e poi un'altra specie, anche questa comunissima in pianura, che è il Drasterius bimaculatus. L'ultima colonna inizia con la famiglia Staphyllinide, della quale credo la specie più impressionante sia questa, che è lo Cipus olens, chiamato anche Cocchiere del Diavolo, per il suo aspetto veramente impressionante. E' una specie, anche questa, abbastanza comune in pianura, ed è un predatore, come forse immaginate, e il suo morso vi posso assicurare che fa male. Qui di fianco c'è un'altra specie abbastanza carina, che è l'Ontolestes murinus, dalla livrea veramente bellissima, che è particolare perché si rinviene spesso negli escrementi. Infatti è un predatore che caccia delle larve di insetti che si nutrono di escrementi, in sostanza, e quindi lo si può trovare lì. Anche questo l'ho trovato sempre nel video, viva la cacca! Subito sotto anche alcuni silfidi, appartenenti a quattro specie abbastanza comuni, tra cui ad esempio la silfa carinata, questa qua più grande, e il sempre bello oiceoptoma toracicum. Poi vabbè, qui ho qualche tenebrionide, e subito sotto dei birridi. Questi animali sono veramente impressionanti, perché hanno le zampe ad incastro. In sostanza, quando le richiudono, si incastrano perfettamente all'interno di apposite incavature nell'addome, e in questo modo questi animali sembrano in tutto e per tutto dei semi di qualche pianta. Queste specie le ho trovate in particolare in montagna, e quella che vi sto facendo vedere è il virus picipes. Ora passiamo al misto di insetti che ci sono qua sotto, iniziando da quello un po' più impressionante che avrete di sicuro notato, è questo qui, e appartiene alla famiglia Hidrofilide, ed è un Hidrofilus piceus, una specie di coleotero acquatico. Subito sotto ho un misto di specie di varie famiglie, come ad esempio degli elmidi, o anche i drenidi. In ogni caso, qui tutte queste specie sono insetti acquatici, che vivono in acqua, in genere sotto le pietre, nei torrenti o anche nei fiumi. In ogni caso, in questo mistone, credo che la specie più interessante che ci sia e che vi voglio mostrare sia questa. All'apparenza insignificante, però appartiene ad una famiglia molto strana, che è quella dei georissidi. Si tratta del Georissus Crenulatus, una specie abbastanza più difficile da prendere. Non l'ho trovata io, mi è stata data in una bustina contenente anche dei girini di per sbaglio. E con questo direi che possiamo anche chiudere, perché ho parlato fin troppo. Con questa scatola chiudiamo molto velocemente la parte su tutti quegli insetti che non sono adefagi. In particolare, questa non è altro che la scatola magazzino più scrausa che ho. Sentite qua? Questo che sentite è il rumore del vetro che balla, quindi proprio lo schifo. Vabbè, in particolare qui ci tengo le specie di coleotteri polifagi e di altri insetti che non ho ancora identificato e alcune, tipo questa serie infinita di curculionidi, non penso che le identificherò mai. È più probabile che le dia via qualcuno. Oh, di roba interessante qui magari ci può essere questo, che è un Apoderus appartenente al gruppo dei... come si chiamano? Attelabidi, ecco. La famiglia è quella degli attelabidi, chiamati anche i sigarai, perché le femmine costruiscono per le larve una struttura molto strana fatta con delle foglie e che vengono ripiegate a formare quasi un sigaro. In questo sigaro depongono l'uovo e in questo modo la larva cresce in un ambiente protetto. Anche i maschi sono molto particolari perché hanno un collo allungatissimo e sono veramente comici. Uno di questi è diventato anche un meme un po' di tempo fa. Poi, vabbè, cosa c'è? Questa? Questa è una femmina di icneomonide, un tipo di menottero, in realtà non così imparentato con le vespe. E in particolare sono i menotteri parassiti. Questo che vedete non è il pungiglione ma l'ovopositore ed è così lungo perché serve per raggiungere le larve di insetti che vivono nel legno. In particolare quando l'ovopositore raggiunge una larva, la infilza e depone dentro un uovo. In questo modo la larva di icneomonide divorerà l'altro insetto dall'interno mentre è ancora vivo. Allegria! Poi vabbè, cos'altro c'è? Ci sono alcune due libellule, due forbicine, alcuni isteridi e magari questi possono essere un po' più carini, sono dei brentidi. In particolare sono specie tropicali e provengono dalle Filippine. E non penso che riuscirò mai a identificarli. Vabbè dai, chiudiamo. Anche questa. Bene, questa qui è la scatola magazzino in cui tengo tutti gli adefagi che o non sono identificati, nelle ultime due colonne per adesso, oppure che sono identificati ma a cui non ho ancora fatto posto nelle scatole organizzate per bene e che quindi tengo qui in attesa di sistemarli meglio. Iniziamo subito con queste che appartengono al gruppo dei clenini. In particolare ho un clenius cruciatus e due clenius circumdatus, tutte specie estere. Il cruciatus viene dalla Namibia, gli altri dall'Indonesia. Subito sotto c'è due perichalus undatus e poi un abax della specie Benningeri, o perlomeno credo che sia di questa specie perché è femmina e purtroppo le femmine sono molto difficili da identificare in confronto ai maschi. Subito sotto ci sono due, anzi tre, bestiole veramente ma veramente stupende. Prima di tutto questa che è l'Oreonebria Picea che ho trovato nel video in cui andavo apposta a cercarla, una cosa incredibile che è successa raramente, comunque viene dalle Dolomiti di Brenta. Subito di fianco c'è un'altra Oreonebria che ho incontrato totalmente a caso sulle Alpi Piemontesi. Appartiene alla specie Oreonebria Ligurica. Subito sotto la terza specie molto molto bella, anzi sottospecie perché la specie ve l'ho già fatta vedere, è il Duvalius baldensis della sottospecie Cartolari. Questi provengono dai Monti Lessini. Qui di fianco poi, sempre restando sulla prima colonna, ci sono dei Calatus della specie Micropterus, simile al Cinctus barra Melanocephalus, e appena sotto il Sinecostictus decoratus. Poi qui in basso ci sono una serie di specie che mi sono state regalate. Iniziamo con questi che sono dei Mias. Questi appartengono al sottotribù Molopina, ecco, dei Pterostichini. In particolare questi sono esemplari della specie Mias Calibeus che vengono dalla Grecia e, cosa abbastanza particolare, dal Monte Taigeto, che se non ricordo male era quello da cui gli spartani gettavano i figli nati deformi. Vabbè, andiamo avanti con un altro genere molto simile a Mias, che è il genere Trigonognata. Questa specie è la Trigonognata eescharupsi, credo si pronunci così. E subito dopo la Trigonognata viridis. Appena sotto ho alcuni cicindelini veramente spettacolari. La mia preferita in assoluto, nonostante sia un po' malandato l'esemplare, è questa, che è la Pseudoxicheila inca. Queste sono specie sudamericane. Anche quella dopo è dello stesso genere, ovvero è una Pseudoxicheila aymara. Poi ci sono tre Megacefalini, tra cui questa, che è una Tetraca distinguenda. Poi c'è la Tetraca Pilosipennis, molto bella, con quel colore bronzato, quasi dorato. E poi la Tetraca Sobrina. Subito sotto ci sono altre Eptodonta, in più rispetto a quelle che vi ho fatto vedere nella scatola normale, che sono l'Eptodonta Ferrari, l'Eptodonta Eugenia, del bellissimo colore viola, e infine l'Eptodonta Mindoroana, che viene dall'isola di Mindoro, nelle Filippine. Bene, chiudiamo con i carabidi esotici, torniamo a specie italiane con questo, che è il Poecilus coi, trovato sul Monte Baldo. Un'altra specie trovata sul Monte Baldo, che prima non avevo, è il Sinucus vivialis. e poi anche queste due, in realtà, che sono l'Amara Aulica e l'Amara Alpestris, della sottospecie Baldensis. Infine, questo è uno dei motivi per cui sono andato sul Monte Baldo, è il Trecus pumilus, che vi ho fatto vedere anche nel video, ed è una specie veramente interessante perché è endemica soltanto dalle cime più alte del Monte Baldo. Ah, e poi qui di fianco c'è un Amara Equestris. Che schifo le Amara. Vabbè. No, non per fare discriminazione, ma fanno schifo, ammettetelo dai, anche voi. Andiamo avanti con la seconda colonna, che inizia subito alla grande perché ci sono due bellissimi insetti appartenenti alla specie Calosoma sicofanta, che mi sono stati dati, non li ho trovati io, purtroppo. Subito sotto c'è una bella serie di Scotodipnus alpinus, un carabide trechino, questa volta è in dogeo, cioè vive nel terreno profondo, ed è lì che l'ho trovato, per fortuna anche in abbondanza. Per una volta ho avuto un po' di fortuna. Subito sotto c'è una specie di carabus, che è il carabus convexus, che non avevo ancora e che ho trovato in Piemonte. Un'altra specie di carabus, o perlomeno i suoi resti, sono questi qua, appartengono alla specie Carabus intricatus, una parente del Carabus lefebvrei che vi ho già fatto vedere. Subito sotto c'è uno Pterosticus onnorati, una specie molto molto bella, che è la prima volta che ho incontrato, e anche questa è molto particolare perché vive soltanto ad alta quota. Di fianco ci sono dei Lemosthenus ginelle, una specie di sfodrini, endemica anche questa delle Alpi occidentali. Chiudiamo anche questa colonna con un'amara, l'amara consularis, e con una specie di Arpalus, l'Arpalus marginellus, che ho trovato sul Monte Guglielmo. Soltando la terza colonna, che tanto sono specie che avete già visto, nella quarta e nella quinta ci sono tutte le specie non identificate, che in realtà non ce ne sono molte di così particolari. Magari questa qui può essere un po' strana, che è un Morion, o comunque di un genere simile, e per adesso non conosco la specie. Proviene dalle Filippine, ed è un parente dagli Pterosticus. Poi vabbè ci sono alcuni Neocoliris, qua sotto alcuni Clenius, probabilmente sempre il Circumdatus, provengono sempre dal sud-est asiatico, e poi nell'ultima ci tengo i Girinidi, e alcuni Aliplidi anche, che non ho ancora identificato. La maggior parte di questi appartengono al genere Patrus, ma le specie sono tantissime, e molto incasinate. In teoria doveva uscire una revisione, ma poi non so che fine ha fatto. Spero che esca presto, così riesco ad identificarli. Ne ho parecchi esemplari, e poi ci sono anche alcuni di Neutus, un genere di Girinidi, che comprende specie veramente grandissime, e che ho acquistato alla Fiera di Modena. Non li ho trovati io, sono tutti questi Girinidi, appartengono a specie tropicali. Ebbene, io direi che abbiamo anche finito con questa scatola. E con questa scatola pienissima, continuiamo con i Carabidi non ancora identificati. In particolare, le robe che ci sono in questa scatola, e anche nella prossima, non sono mie, ma mi sono state affidate per essere preparate. Infatti, la maggior parte di questi era dentro dalle bustine, e io le ho preparate meglio che potevo, nella maggior parte dei casi, perché alcuni tipo questo erano disintegrati. Io ho fatto quello che potevo, e spero che vada bene. Comunque, ovviamente, non vi farò vedere tutto. Magari starò facendo passare già adesso una carrellata di alcune specie, e mi fermo un attimo magari su quelle un po' più interessanti, tipo queste qui che sono delle dromica, dei cicindelini provenienti dall'Africa, molto molto strani. Poi magari anche questi. Questi qui sono dei carabidi del genere Ecoptopterum, nome orribile, secondo me, che, almeno io credo che sia così, la loro colorazione imita quella di alcuni menotteri, i mutilidi, che hanno la particolarità di avere una puntura molto dolorosa, e quindi anche in questo caso credo che si proteggano così. Poi, vabbè, ci sono moltissimi coliridini provenienti dal sud-est asiatico. Poi che cosa c'è di carino? Ah sì, questi sono dei bellissimi Catascopus dalla Papua Nuova Guinea. E queste sono delle Aristocroa, un gruppo di pterostichini provenienti dall'Asia. In particolare questi provengono dalla catena himalaiana, che sono veramente, ma veramente bellissimi. Ah, e poi, come potevo dimenticare questi due? Questi sono Pogono Stoma e sono veramente orribili! Guardateli! Fanno veramente ribrezzo! Sembra che una cicindola sia finita in un racconto di Lovecraft. Sono meravigliosi! Li adoro! Non li avevo ancora visti dal vivo, nel senso da esemplari morti ovviamente, non li ho mai visti dal vero, vivono soltanto in Madagascar e sono veramente rarissimi, perché come i coliridini, di cui sono parenti, sono specie arboricole. Per questo motivo si prendono raramente e si esportano ancora molto più raramente dal Madagascar, che ha dei controlli molto rigidi sulle esportazioni. e io, non so voi, ma li adoro! Sono sbagliati! Non so come dirlo! Non lo so, e li adoro per questo! Direi che con questi possiamo anche chiudere questa scatola! Chiudiamo velocemente con questa scatola, che include gli ultimi insetti che ho preparato per l'altra persona, in particolare qui ho una bella lunga serie di eptodonta, queste cicindelini che vi ho già mostrato, in particolare sempre questi provengono dalle Filippine e sono di altre specie rispetto a quelli che vi ho già mostrato. Poi vabbè, qui ci sono dei Carabidi vari, molti altri cicindelini. Questi qui sono abbastanza strani, sono dei Craspedoforus appartenenti al gruppo dei Panageini. E poi, vabbè, nient'altro di così speciale. E per concludere con le scatole magazzino, questa è la mia prima scatola di insetti, o perlomeno la prima scatola che ho usato per tenere insetti con i dati e quindi preparati un po' più seriamente. In ogni caso, prima di cominciare, vi dico subito che la preparazione di molti esemplari fa veramente pena, perché erano i primi che facevo, quindi siete avvertiti. Vabbè, qui ci sono un po' di... come in tutte le scatole magazzino c'è un bel po' di roba sparsa. Qui abbiamo una parte con i primi Carabidi che ho mai preparato e infatti si vede. Molte delle specie che ci sono sono roba veramente comune perché le trovavo tipo in giardino o in cortile, così. Ad esempio ci sono molti Arpalus, molte Amara, questi sono Pterosticus, questo qua è un Poecilus e così via. Niente di speciale. Passando un po' a altri... Vabbè, comunque tutte le specie che avete visto qui di Carabidi, più o meno, le avete già viste anche nelle altre scatole perché poi le ho ritrovate tutte e quindi... e quindi vabbè. Ci sono anche alcuni Curculionidi che in realtà potrei anche già ripreparare perché non sono neanche sistemati così male e metterli nelle altre scatole però aspetto di avere altre scatole in cui tenere i polifagi. Ad esempio qui ci sono due Ziorrinchi. Questo, molto carino, è un Curculio Glandum che è l'unico esemplare che ho mai trovato in realtà di questo genere. Poi qui ci sono altri Curculionidi, ci sono due Liparus, ad esempio. Questo è un Lixus e poi questi qua sono un Doritomus molto simile al Curculio e un Polidrusus Formosus molto bello con quell'effetto glitterato. Poi ci sono alcuni Silfidi. Questa è una Fosfuga Trata, questa qui è una Silphatristis e questi sono Oicioptoma Toracicum. Passando invece a questi, questi sono i miei Crisomelidi. Queste qua sono delle Oreine, queste due sono le Crisomela Populi, una delle specie più comuni che si possono trovare in giro. E qui altre specie varie. E questa è una specie molto carina che è un Ipocassida Subferruginea. Molto bella. Ah, qui ho saltato questi quattro esemplari. Sono due Gerridi della specie Gerris Argentatus e due Idrometre della solita Idrometra Stagnorum. Poi vabbè, qui sono quattro coccinelle che a momento mi vergogno di averle prese perché, ah, schifo le coccinelle. Vabbè, alcuni Cetonidiz. Sono due Cetonia Aurata, di cui una ho preparato dagli aperti, non so perché. E due Oxitirea Funesta. Questa è una Pyrocroa, credo sia la Pyrocroa Serraticornis. E qui ci sono due Dorcus, vi ricordate, le avrete visti anche nell'altra scatola, i Dorcus Parallelepipedus. E poi alcuni Cerambicili, come questa qua, che è bellissima, veramente, l'aromia moscata. Questo qua è un Morimus Asper, sì, dovrebbe essere, sì. Questo qui è un Monocamus, trovato in montagna. Questo qui è il Tricoferus, non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque un'altra specie molto comune. E infine due Rutpela Maculata. Poi questo qui, che sono sicuro che avete notato subito all'inizio, ma l'ho tenuto per la fine, è un Acrocinus Longimanus, femmina. Forse ve lo ricorderete, perché è quello che ho preparato nel video, appunto, su come si preparano insetti coleotteri di grandi dimensioni. È lo stesso esemplare. O poi direi... Ah no, 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 stavo dimenticando questi due. Che sono due Panorpa. La spezia non la so, perché sono molto difficili da identificare, e in realtà ho sbagliato anch'io prepararli così, perché si dovrebbero tenere in alcol. Comunque, questo è il maschio e questa è la femmina. E direi che così può bastare. Siete ancora vivi? Beh, se è così, congratulazioni! Siete arrivati alla fine del video. Io vi ringrazio ancora moltissimo per tutto il supporto, e spero che abbiate apprezzato questo mostro di video che è uscito. Boh, in realtà la collezione non è esattamente ordinatissima, i polifagi sono messi tutti un po' lì alla rinfusa, e alcuni carabidi già identificati sono ancora nelle scatole magazzino in attesa di essere messi al loro posto. Però questo è l'unico momento buono che ho per registrare, e se avessi aspettato di avere tutta la collezione perfettamente in ordine, questo video sarebbe uscito nel 2050, forse. E quindi, niente, grazie mille ancora, e ci si vede in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!